Buongiorno, prego se possiamo prendere posto così iniziamo. Grazie. Grazie. Buongiorno, ben arrivati, un saluto a tutti i partecipanti, a quelli che ci hanno raggiunto di persona, ma anche a coloro che sono collegati in streaming, il tema che trattiamo oggi evidentemente è un tema di grande interesse anche per gli enti proprietari, per gli amministratori, l'edilizia scolastica è una delle priorità nel nostro paese, quindi stiamo facendo un lavoro di concertazione fra vari livelli istituzionali per offrire le risposte migliori e quindi l'ampia partecipazione di questa mattina dimostra che l'interesse è alto da parte di tutti noi. Permettetemi di ringraziare in modo particolare anche la nostra dirigente Sara Mele, che ha avuto un infortunio sui campi di sci, insomma, e quindi ci sta seguendo anche lei da lontano, le auguriamo davvero una pronta guarigione e sarebbe stata veramente felice oggi di essere qui con noi, ma insomma ci segue da lontano, quindi la salutiamo in modo affettuoso e per le prossime occasioni sarà di nuovo in forma, come sempre, per accompagnarci di persona. Dunque questo è un evento che abbiamo voluto come Regione Toscana, non è un evento isolato perché prosegue una serie di interlocuzioni, di incontri e di occasioni di collaborazione che la Regione ha con gli enti attuatori, quindi con i comuni che sono i responsabili, gli enti proprietari degli edifici scolastici del primo ciclo, con le province e la città metropolitana di Firenze, che invece sono gli enti proprietari, come sappiamo, degli istituti scolastici superiori. Qui al tavolo con me ci sono il vicepresidente di UPI Toscana, il dottor Luca Menesini, che ringrazio, la vice sindaca di Firenze è in arrivo perché lei è anche rappresentante scuola di Anci, ci raggiungerà fra poco perché aveva dei saluti in concomitanza, quindi insomma l'attendiamo quanto prima, e la dottoressa Simona Montesarchio, che è il direttore generale del MIUR per gli interventi in materia di edilizia scolastica, che salutiamo, grazie, e naturalmente lo conoscete tutti, c'è l'architetto Andrea Gabrielli, che io dico sempre andrebbe clonato perché insomma è il terminale a cui insomma vi riferite, e lo ringrazio, lo voglio ringraziare pubblicamente, come ringrazio appunto Sara Mele per la disponibilità, insomma perché cerca veramente di trovare soluzioni anche di fronte alle tante criticità che purtroppo si presentano, non solo in Toscana ma anche in Toscana. Dicevo che appunto questo non è un evento isolato perché c'è stato, ce ne sono stati altri, e noi come Regione Toscana abbiamo anche il coordinamento della nona commissione in conferenza delle regioni, quindi anche in osservatorio edilizia scolastica a Roma abbiamo degli incontri periodici più o meno mensili. Quindi siamo alle porte del nuovo triennio di programmazione, quindi il triennio 18-20, si sta concludendo il primo triennio, quindi la programmazione del 15-17 e proprio in vista dei prossimi bandi abbiamo pensato di organizzare questo evento con lo scopo di dare a una platea più ampia possibile, quindi a tutti quelli che sono interessati, la possibilità di conoscere al meglio, di avere consapevolezza di quelli che possono essere gli strumenti a disposizione per rendere gli edifici scolastici in cui i nostri bambini, i nostri ragazzi si formano e crescono i più sicuri possibili. Dicevo appunto che si è concluso di fatto, anche se i finanziamenti dell'ultima annualità, come poi tecnicamente si dirà, devono ancora essere distribuiti, però si è concluso il primo triennio di programmazione e programmazione appunto che conosciamo relativa alla legge che indichiamo come legge mutuo ebay, in realtà è il decreto legislativo del 12 settembre 2013 104, però noi insomma la indichiamo con questa espressione mutuo ebay. Nel piano di programmazione 2015-2017, vi do solo dei dati sintetici, poi magari sarà Andrea a darvi i dettagli, abbiamo finanziato, stiamo finanziando 189 interventi per oltre 140 milioni, quasi 140 milioni e mezzo, quindi insomma non poca cosa. Sono ancora ad assegnare, come dicevo, i fondi dell'annualità di 2017, sono ancora ad assegnare 10 milioni, ma poi magari questo lo diciamo, dell'ultima annualità 2017. Su un totale di 526 richieste che erano presenti nel piano triennale 2015, per un totale di 307 milioni, sono stati finanziati 189 interventi, come dicevo, per 140 milioni e 400 mila euro. Quindi il 36% degli interventi, ma oltre il 46% riguardo ai finanziamenti. Con l'anno 2018 parte il nuovo triennio di programmazione e il via alla nuova programmazione è stato dato dal decreto interministeriale, i ministeri interessati sono naturalmente MEF, MIUR e MIT, decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 4 aprile del 2018. Questa data del 4 aprile è importante perché è da questa che partono i 120 giorni che le regioni hanno a disposizione per l'invio al MIUR dei piani regionali triennali. Il decreto contiene una novità rispetto al precedente che ha dato il via alla programmazione del triennio 15-17, incentrata prevalentemente sulla celerità della realizzazione delle opere. Vi ho già detto appunto che c'è stato un confronto serrato fra i vari livelli istituzionali, quindi ANCI, UPI, noi regioni e il ministero, e in pratica ci si è chiesti ma qual è la caratteristica più importante per un edificio, per un edificio scolastico? La risposta appare perfino scontata nella sua banalità, è che stia in piedi. Quindi in particolare l'edificio deve essere sismicamente adeguato. Allora questa è stata la priorità che nella scorsa programmazione, anche per rifarci al programma nazionale di antisismica, sono stati estrapolati gli interventi che contenevano adeguamenti alla normativa antisismica. In questa programmazione il criterio di priorità sarà esattamente questo, cioè il criterio di adeguamento sismico e quindi di stabilità dell'edificio, sia, ma anche qui io lo dico con parole mie, ma poi tecnicamente i tecnici lo spiegheranno meglio, quindi la staticità sia per carichi orizzontali, sia sismica che per carichi verticali, quindi la staticità in tutte le sue dimensioni. Quindi in pratica, che dire, appare abbastanza inutile andare a rifare gli infissi ad ogni edificio che poi magari dopo tre mesi dalla ristrutturazione in questo senso deve essere chiuso perché non è adeguato dal punto di vista della sismica. Quindi è questo un po' il cambio di paradigma, cioè partire dalla priorità e avere una logica di intervento verticale, cioè invece di fare tanti interventi in maniera trasversale su più edifici, un edificio che viene adeguato a tutti gli interventi e quindi viene riconsegnato nel migliore delle condizioni possibili, appunto di sicurezza e quant'altro. Un'altra novità è rappresentata dal fatto che nello scorso triennio gli edifici che ospitano istituti scolastici superiori sono stati, fra virgolette, penalizzati perché eravamo anche in un momento in cui, alla vigilia di un referendum costituzionale, le province che sono gli enti proprietari avevano anche, si pensava che forse avrebbero esaurito anche la funzione sull'edilizia scolastica. Quindi insomma sono stati presentati meno progetti, quindi noi avevamo molti meno progetti nel nostro piano triennale per anche difficoltà di reperimento di risorse sicuramente finanziarie ma anche professionali. Questo ci ha fatto pensare a livello nazionale, qui c'è stata una richiesta di UPI ben precisa che forse era il caso di intervenire proprio perché le criticità maggiori sono proprio sulle scuole superiori che anche necessitano per loro dimensione di interventi più onerosi, più cospicui, ci ha fatto pensare quindi di prevedere una sorta di riserva in questi piani finanziari per le scuole superiori e quindi per gli edifici di province, città metropolitane, edifici destinati alle scuole superiori. E come regione toscana abbiamo previsto di stabilire una riserva del 40% per questi indirizzi. Questa nuova logica di programmazione in realtà la regione la sta attuando, l'ha attuata attraverso due delibere, anzi una delibera di giunta, la numero 340 del 2018 con la quale sono stati approvati i criteri e il decreto 5137 sempre del 2018 con il quale sono stati approvati sempre criteri e modalità di intervento. Per quanto riguarda l'antincendio invece, ma anche questo poi lo anticipo solamente, nell'ultima riunione che abbiamo avuto in osservatorio di edilizia scolastica nel 7 marzo del 2018, il MIUR ci ha comunicato che dovrebbero essere messe a disposizione da parte dello Stato delle risorse destinate in maniera specifica all'adeguamento antincendio degli edifici scolastici, soprattutto nell'ottica della scadenza del 31 dicembre. Quindi essendo questi dei fondi destinati a questo scopo specifico dovrà essere predisposta un'apposita graduatoria separata quindi da quella triennale che riguarda gli altri interventi che dovrà essere inviata appunto al MIUR con tempistiche diverse rispetto a quelle del piano triennale. Quindi insomma oggi noi siamo qui a disposizione per rispondere alle domande che ci saranno insomma proprio in una logica di collaborazione perché di fronte a questa sfida importante, dicevo una delle più importanti che abbiamo anche come sistema paese oltre che come regione, le risposte migliori le riusciremo a dare proprio se lavoreremo tutti insieme in una logica di rete, in una logica di sistema. Questo è lo sforzo che stiamo facendo già da qualche anno con la massima collaborazione di tutti proprio perché il risultato finale è quello che ci interessa, che interessa tutti i livelli istituzionali e soprattutto che interessa i cittadini e che interessa le famiglie dei ragazzi che poi questi edifici li devono frequentare e quindi devono avere tutte le migliori garanzie di sicurezza e anche di idoneità dei locali. Bene, io mi fermo qui e lascerei la parola a Cristina Giacchi che ringrazio, che ci ha raggiunto, le abbiamo fatto fare un po' di corse. e appunto Cristina che oltre a essere vice sindaca del Comune di Firenze ha anche un ruolo importante, un ruolo di responsabile scuola ANCI nazionale e regionale. Grazie Cristina, a te la parola. Grazie Cristina, sembra un balletto le Cristine, ci confondono anche per via del cognome, Giacchi, Greco, quindi a volte annunciano una e arriva l'altra, va bene, però va benissimo così ed è un piacevole scambio. Vi ringrazio, mi scuso per il ritardo con cui vi ho raggiunto, ma sono abituata, devo correre spesso tra un'iniziativa e l'altra. Stamattina si ricordava una bella figura di uno psicanalista allontanato per via delle leggi razziali dall'Università di Firenze, ignoto ai più a Enzo Bonaventura, che invece ha dato un incredibile contributo alla storia della psicanalisi e alla storia della psicologia che nel nostro paese, grazie appunto non solo alle leggi razziali ma anche al fascismo, ha avuto questo esito, per cui era importante esserci e a riannodare i fili della memoria. Qui siamo a fare un lavoro invece tutto sul presente. Io devo dire che in questi anni è cambiato radicalmente lo scenario in cui si svolge il lavoro degli enti locali sul tema dell'edilizia scolastica. Sono state alcune scelte politiche consapevoli e centrali della passata legislatura e dei governi che l'hanno interpretata a intervenire decisamente sul tema dell'edilizia scolastica e sull'investimento nell'edilizia scolastica. Sono stati molti miliardi di euro investiti in questa partita e devo dire che non è soltanto cambiato lo scenario dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista del rapporto e della collaborazione, dello spazio, dell'ascolto riservato agli enti locali nel seno delle politiche che il governo ha messo in atto. Devo dire che, benché spesso ci accapigliamo e ci confrontiamo e sentiamo tutto lo stridore delle nostre burocrazie che si confrontano, quelle degli enti locali e quelle dei ministeri, però quello che non è mai mancato in questi anni è stata la possibilità di confrontarsi. La riattivazione dell'osservatorio dell'edilizia scolastica con regolarità e con un'azione che si rispecchia negli atti. Il poter incidere sui provvedimenti e vederli nascere, non sempre con uguale soddisfazione, ma ripeto, è una questione di metodo poi più che di soddisfazione sui singoli risultati, quella che conta e che vorrei sottolineare, ha rappresentato davvero una grande novità. Per cui lo dico a tutti gli amministratori locali che per il mondo della scuola rappresento a livello regionale e nazionale e che quelli che hanno lavorato in commissione l'hanno potuto vedere, veramente le cose sono cambiate. Ora siamo di fronte, e qui vengo alla Toscana, a un nuovo ciclo triennale di programmazione che sicuramente risenterà beneficamente dell'esperienza della triennio passato e anche delle inesperienze che abbiamo insieme potuto verificare e migliorare in questa nuova edizione. Sono anche successe molte cose nel mondo dell'edilizia scolastica che non derivano dalla nostra volontà. Come voi vedrete, se ci sono qui, nell'affrontare il bando, c'è una forte attenzione al tema dell'antisismica, perché in questi anni purtroppo abbiamo dovuto confrontarci non a Firenze o vicino a noi, ma in altre regioni del Paese con l'emergenza che è stata rappresentata dalla capacità di resistenza dei nostri edifici agli eventi sismici. Così come il tema di tutte quelle proroghe nell'adeguamento, antincendio e altri livelli di sicurezza, che negli anni ci siamo sempre trascinati non adeguandosi mai al livello necessario finché il livello cambiava e non ci si adeguava nemmeno al livello successivo e quindi in un sistema di proroghe progressive che oggi vengono fortemente stigmatizzate dalle associazioni anche nate in seguito a eventi tragici e risultano incomprensibili spesso alla cittadinanza, ma che gli amministratori locali sanno bene che sono spesso il frutto del non riuscire a tenere allineate le politiche di investimento, le politiche di finanziamento degli antilocali, le politiche di dislocazione sul territorio delle risorse necessarie a far fronte alle competenze. Io faccio sempre un po' la partigiana, i comuni sono l'ultimo anello e sono coloro che poi devono trasformare le intenzioni in fatti che i cittadini possono vedere. Questa è la parte appassionante e sfidante del nostro lavoro e anche ciò che rende poi urgente e pressante la nostra azione con i livelli istituzionali superiori. Io posso dire che in questi anni in Toscana la regione è stata più che reattiva e ha davvero messo in campo tutto ciò che poteva per venire incontro alle esigenze dei comuni e che a livello nazionale si è fatto questo enorme sforzo di tenere insieme un Paese molto diverso per capacità di intervento degli antilocali sui territori, per investimenti nel tempo su questi temi specifici e anche per efficienza ed efficacia delle macchine amministrative. Quindi davvero è un lavoro impari quello che Simona Montesarchio e tutto lo staff dell'edilizia scolastica che al Ministero fanno e io gli rendo tutto il merito devo dire che appunto l'ascolto credo abbia aiutato anche se ha fatto emergere tante difficoltà ma che sia l'unica strada che noi dobbiamo continuare a percorrere quella di un confronto continuo sui temi sui singoli provvedimenti che consenta a tutti davvero di dare il meglio della loro capacità di azione amministrativa. Il grosso tema che rimane oggi per i comuni soprattutto per i comuni più piccoli è il tema della progettazione e della fatica dell'adeguamento dei livelli di progettazione alla competizione che i bandi per i finanziamenti propongono ma anche su questo molti passi sono stati fatti con i fondi di rotazione con politiche di sostegno alla capacità progettuale dei comuni. Potremo andare avanti ripeto l'osservatorio è il luogo opportuno vedremo il nuovo governo e come interpreterà la sua competenza in questo ambito e davvero ci auguriamo che non si faccia nemmeno non un passo ma nemmeno si prenda un po' di rincorsa che si vada decisamente avanti nelle politiche di investimento sugli edifici scolastici non si tratta soltanto di questioni di sicurezza anche se sono prioritarie si tratta anche di mostrare plasticamente che là dove si fa educazione e formazione di cittadinanza risiede il cuore dello sviluppo del paese non lo si può soltanto dire non si può soltanto occuparsi di grandi temi e poi non occuparsi della faticenza e della condizione in cui la dinamica educativa deve avere luogo non si può parlare di bellezza in luoghi brutti non si può parlare di efficienza e di intelligenza in luoghi stupidi e inefficienti non si può parlare di futuro in luoghi che non sono attrezzati non dico per produrlo ma nemmeno per ospitarlo per farlo vedere quindi è chiaro che la sfida è ancora altissima ma credo che tutti quelli almeno quelli che sono a questo tavolo sono tutte persone che ci credono e che nei loro ruoli producono la novità e il livello di azione amministrativa che è necessario ecco quindi il lavoro da fare è molto ma non può non rimanere una priorità per il paese per gli enti locali a livello regionale e poi per i comuni che non hanno bisogno di dirselo che è una priorità perché hanno comunque sempre i genitori alla porta i ragazzi ai cancelli giustamente e vivono faccia sono faccia a faccia con il problema ogni giorno come tanti sindaci ci scrivono e tanti assessori ci ricordano saluto l'assessora di Milano che oggi per l'appunto voleva essere con noi e non è potuta venire perché il crollo di tre contro soffitti la trattiene a lavorare sul campo proprio per affrontare i temi pure in un'amministrazione che ha dedicato molta cura che ha lavorato moltissimo e che ha moltissimi edifici da custodire e da curare quindi grazie ringrazio Anci Toscana perché la scinghia di trasmissione è efficacissima dall'Anci nazionale attraverso Anci Toscana noi credo che riusciamo a raggiungere tutti i nostri amministratori e li invito tutti se ci sono a partecipare sempre di più a livello regionale e a livello nazionale perché solo facendoci sentire in modo costruttivo riusciamo anche a dare la misura di che cos'è la necessità degli enti locali e dell'azione amministrativa a livello locale su questi temi grazie e buon lavoro Luca Menesini Vicepresidente UPI Sì buongiorno due parole per velocemente per non ripetersi sulle questioni le questioni già dette perché poi le questioni che riguardano Anci che riguardano i comuni non sono diverse dalle questioni che riguardano le province che riguardano chiaramente l'associazione delle province intanto come veniva evidenziato il fatto che la questione dell'edilizia scolastica della sicurezza degli edifici scolastici e quindi anche di quello che è il processo il percorso educativo ai luoghi dove educhiamo i nostri figli sia stata posta in maniera forte nell'agenda politica questo credo che sia inequivocabile sia chiaro sia evidente non sia questione di oggi ma sia una questione appunto che ha riguardato la legislatura che è appena appena terminata e che ha permesso agli enti locali di beneficiare di interventi in maniera consistente qualcuno potrebbe dire un po' tardi però sicuramente oggi questo c'è e la programmazione che qui oggi viene presentata è una programmazione che è ancora più ricca anche dal punto di vista economico anche dal punto di vista finanziario rispetto alla precedente che sicuramente fa tesoro di quelle che sono state le esperienze quella che è stata l'esperienza l'esperienza precedente un'esperienza che se non sbaglio per la Toscana ha voluto dire circa un centinaio di milioni quindi 140 quindi molto molto di più diciamo di quelle che erano le aspettative le aspettative iniziali dove e qui dico una cosa che riguarda le province dove le province sono state un po' marginali perché era il 2015 perché era il momento che non si capiva ancora bene la transizione dove ci avrebbe portato oggi la transizione in parte continua ma con alcuni punti fermi le province continuano ad essere in costituzione e hanno una delle funzioni fondamentali è quella dell'edilizia scolastica e quindi rispetto a questa programmazione nuova quello che mi preme evidenziare e ringraziare anche l'assessore greco per il lavoro fatto quindi la regione nel suo nel suo complesso per il lavoro fatto anche di concertazione di confronto con tutti i livelli ma anche quell'elemento che veniva evidenziato prima di aver riservato un 40% alle province perché c'era da recuperare un gap c'era da recuperare il fatto che per gli ambiti di scuola secondaria nella prima programmazione si fosse rimasti indietro tanto che il beneficio delle province nella prima programmazione è inferiore al 15% quindi è una percentuale bassissima ci sono province che hanno beneficiato pochissimo ma non è che ne beneficia la provincia ne beneficiano chiaramente i ragazzi e quella che è il percorso appunto educativo dei ragazzi stessi quindi intanto mi preme evidenziare questo ringraziare come dicevo l'assessore ringraziare la regione ringraziare tutti i livelli istituzionali perché come evidenziava appunto Cristina Giacchi Pocanzi il lavoro che è stato fatto in questo periodo anche di analisi della prima programmazione quindi di messa a frutto è stato un lavoro importante anche il fondo per la progettazione che a livello nazionale il ministero appunto dei trasporti e delle infrastrutture ha già messo a disposizione per le province c'è anche per Ance e per i comuni un qualcosa che va nella stessa direzione allo stesso tempo anche la regione sta lavorando su questo sono tutti elementi credo significativi e sono tutti elementi che mettono tutti tutti gli enti a poter usufruire dell'opportunità che sono messe sul piatto opportunità importanti quindi verrebbe da dire che a questo punto oggi è una presentazione di quello che è la nuova la nuova programmazione visto che abbiamo una platea estremamente qualificata e di tutti addetti ai lavori a questo punto sta a noi diciamo all'interno degli enti di poter usufruire fino in fondo di queste opportunità e credo evidenziando tre elementi appunto sia innanzitutto per la questione della sicurezza dare luoghi sicuri dove i nostri figli studiano l'altro elemento è dare anche luoghi belli gradevoli per i ragazzi delle scuole superiori dove si cresce anche da un punto di vista di senso civico di cittadinanza di rapporto con le istituzioni è il luogo pubblico nel quale maggiormente si vive se questo luogo è degradato se questo luogo è insicuro se questo luogo non è bello questo è il senso delle istituzioni che noi passiamo e credo che il lavoro che quindi dobbiamo fare sia un lavoro significativo e estremamente importante perché è un lavoro anche di educazione civica rispetto a questo e il terzo elemento che non è assolutamente banale il paese sta uscendo da una crisi economica ci sta uscendo lentamente ci sta uscendo a passettini sicuramente la mole di questi interventi e quindi l'utilizzo di questi finanziamenti e quindi anche passatemi il termine la velocità che parlare di velocità non ente pubblico per uno che fa il sindaco e il presidente della provincia insomma è un grande tema questo la velocità con la quale noi spenderemo questi soldi non è assolutamente indifferente daremo anche un contributo importante a quella che è la ripresa di settori che hanno risentito più di tutti della crisi economica quindi ecco il lavoro da fare credo che sia un lavoro importante un lavoro significativo gli studenti delle scuole secondarie in Toscana sono circa 116 mila e su 380 edifici quindi il lavoro sarà un lavoro importante per ognuno la raccomandazione è quella appunto come già è stata evidenziata e sarà evidenziata in corso della mattinata è quello di fare una programmazione che riguarda effettivamente tutti gli edifici e quindi anche con diversi livelli di progettazione perché queste gradatorie che potranno poi essere aggiornate hanno una validità appunto pluriennale e quindi da queste saranno attenti negli anni successivi appunto le tranche di finanziamento per il 19 e per il 20 il conto alla rovescia dei 120 giorni a questo punto a questo punto è iniziato quindi non resta che augurare a tutti un buon e proficuo lavoro grazie scusate aggiungo una cosa il 14 maggio a Roma con UPI ANCI organizza un convegno sull'edilizia scolastica a livello nazionale tutti riceverete gli inviti che stanno proprio partendo in queste ore e sarà l'occasione per fare il punto che facciamo oggi in vista della prossima programmazione anche a livello nazionale grazie allora io passo la parola a Simona Montesar che è già stata più volte Paola mi ha augurato di diventare direttore generale quindi va benissimo Paola scusa ma siccome io vi scambio sempre di nome anche in osservatorio ho visto qui la locandina Paola Iandolo che comunque è sempre insieme a Simona al tavolo e quindi io veramente come ci scambiano noi io vi individuo in tandem e quindi chiedo scusa Paola comunque insomma il lavoro lo fanno insieme per cui insomma ti lascio la parola prego allora buongiorno a tutti vi riporto i saluti della dottoressa Montesarchio che era impegnata in un altro evento a Catania scusatemi per la voce però purtroppo insomma vengo da un'influenza quindi non sono proprio spero insomma che mi sentiate una voce un po' bassa mi fa piacere insomma constatare che il lavoro che è stato come dire avviato negli ultimi tre anni oggi comincia a definirsi in modo anche un po' più compiuto perché nasce dalle esperienze che un po' tutti abbiamo maturato su questo tema tre anni fa pensavo proprio venendo qui che proprio tre anni fa è stato uno dei primi incontri che è stato fatto sull'edilizia scolastica che partiva proprio qui da Firenze dove andavamo in quel caso a dare tutta una serie di indicazioni sulla programmazione 15-17 che era la prima programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica perché in passato per quanto c'erano state una serie di interventi normativi che avevano in qualche modo incentivato questo strumento unico siamo riusciti diciamo ad avviarlo per la prima volta nel 2015-2017 sicuramente questa programmazione è una programmazione più di carattere tecnico io amo definirla così rispetto alla programmazione 15-17 che nasceva più che altro dall'esigenza di voler finanziare tutta una serie di problematiche che non erano però ben note in tema di edilizia scolastica perché è vero l'anagrafe dell'edilizia c'era ma non era compiuta nel suo contenuto era diciamo più di gestione regionale che non nazionale quindi a livello nazionale erano molte poche le informazioni che si avevano sugli edifici scolastici e sullo stato proprio dell'edilizia in generale grazie a questa programmazione grazie a tutta una serie di attività che sono state poste in essere a partire dall'implementazione dell'anagrafe e a questo diciamo lavoro di gruppo che poi fondamentalmente è stato fatto sull'edilizia scolastica siamo giunti a una definizione di decreto interministeriale che fosse un po' più di contenuto tecnico che accentrasse maggiormente l'attenzione su quelle che erano le criticità emerse negli ultimi tre anni infatti sicuramente le vicende del terremoto non avevano fatto altro che confermare quella che era una cosa che noi già sapevamo a livello nazionale cioè la criticità strutturale degli edifici scolastici ma anche la misura delle indagini diagnostiche che paradossalmente è stata sempre considerata sempre come poco diciamo di poco significato perché si trattava comunque di poche risorse non tutti gli enti hanno colto l'occasione di andare a fare insomma delle indagini però abbiamo noi invece come ministero colto l'occasione di aggiungere finanziamenti non solo alla parte non strutturale che era quella che canonicamente veniva indagata per le criticità legate per l'appunto ai crolli dei solai ma anche per la parte relativa agli aspetti strutturali banalmente con delle prove di carico il quadro nazionale venuto fuori insomma ci ha consegnato una situazione abbastanza seria sulla staticità sulla tenuta delle strutture e proprio per questo abbiamo deciso che all'interno della programmazione triennale era opportuno dare maggior peso e quindi una priorità di intervento per tutti gli interventi che fossero di adeguamento sismico e quindi che intervenissero sulle strutture senza trascurare chiaramente tutte le altre tipologie di intervento e prima fra tutte quelle legate all'antincendio in questo bando poi lo dirà bene Andrea c'è una parte particolare proprio legata all'antincendio che nasce da un'esigenza che negli ultimi periodi è venuta fuori anche su questa problematica perché molto spesso gli enti non hanno le risorse per banalmente fare delle piccole dei piccoli interventi finalizzati per l'appunto al conseguimento non più della certificazione perché oggi c'è la scia però che consentono insomma di considerare di evitare tutte le conseguenze che su questo aspetto ci sono da parte degli organi degli organi di controllo abbiamo cercato anche di aiutare in qualche modo gli enti locali parallelamente con un'altra misura che è attualmente in pubblicazione sul sito del ministero infatti trovate l'avviso relativo alla vulnerabilità sismica come sapete dopo i recenti fatti e i recenti eventi sismici che hanno interessato il centro Italia come ministero dell'istruzione ci siamo attivati per irrigidire un attimo le forme di verifica sugli immobili soprattutto per quelli che ricadono nelle zone 1 e 2 che sono le zone ad alto rischio sismico ed insieme alla protezione civile e insieme al ministero dell'economia delle finanze e cassa depositi e prestiti abbiamo praticamente razionalizzato tutte le risorse che derivavano da mutui che ormai erano scaduti ventennali trentennali dei residui dell'economia che derivavano da quella programmazione e le abbiamo investite in queste verifiche di vulnerabilità ovviamente ci siamo soffermate per adesso soltanto sulla zona 1 e sulla zona 2 perché erano quelle che necessitavano di essere indagate con una maggiore fretta e anche per farsi insomma che gli adeguamenti potessero essere anche più veloci questo questo bando mette a disposizione due è un bando particolare ci tengo anche a sponsorizzarlo perché in realtà mette insieme le risorse che non sono solo del ministero dell'istruzione ma anche del dipartimento casa Italia questa attività appunto di collaborazione che noi come ministero teniamo tantissimo con gli altri enti che ovviamente si occupano sia pure a diverso livello per altre questioni sull'edilizia scolastica abbiamo pensato a questo bando in cui non andiamo soltanto a finanziare le verifiche di vulnerabilità ma anche la progettazione perché come giustamente dicevano gli altri relatori di questo tavolo una delle criticità più grandi di cui noi siamo assolutamente consapevoli per gli enti locali è la progettazione un po' per la cassenza di figure specialistiche all'interno degli enti locali un po' perché purtroppo i regimi diciamo assunzionali limitati non consentono in qualche modo di reclutare personale che sia qualificato devo dire come ministero ci siamo sempre battuti per avere delle risorse ad hoc che fossero finalizzate a questo aspetto però siamo riusciti almeno con questo bando a cercare di mettere insieme entrambe le cose dire agli enti locali verificate gli immobili una volta che dalla verifica l'indice di rischio è al di sotto del limite minimo consentito dalla norma che attualmente per gli edifici esistenti è 0,8 avvidiamo anche le risorse per poter progettare molti enti mi stanno chiedendo ma a quale livello di progettazione evidentemente tutti non avrebbe senso finanziare una progettazione preliminare una progettazione definitiva e non arriverà l'esecutivo quindi ci aspettiamo che le richieste ovviamente avvengano anche in questo senso ovviamente tutta la progettazione che deriverà da questo bando poi andrà inserita nella programmazione trennale nell'ambito degli aggiornamenti diciamo annuali perché è proprio una imposizione normativa la norma che aveva autorizzato questo finanziamento prevedeva che gli interventi che poi si rendessero necessari a valle di queste indagini fossero inseriti nell'ambito della programmazione trennale il bando avrà già partito scadrà il 5 giugno quindi tutti gli enti locali che hanno edifici scolastici che ricadono in zone 1 e 2 possono partecipare la gradatoria è nazionale le risorse saranno attribuite secondo l'ordine di gradatoria e diventerà anche per noi un censimento rispetto ad uno degli aspetti che nell'anagrafe dell'edilizia scolastica non risulta ancora diciamo definito in modo puntuale cioè quello dell'esistenza di una verifica di vulnerabilità e di un indice quale sia l'indice di rischio relativamente a quell'edificio ovviamente questo tipo di bando si sposa benissimo con l'attuale programmazione nazionale perché consente in questo modo agli enti locali di poter fare anche un po' una diciamo verifica su quelli che sono gli edifici e quindi stabilire cosa candidare nella programmazione trennale e cosa decidere invece di indagare più approfonditamente per arrivare ad un livello di progettazione esecutiva sicuramente una delle grandissime novità della programmazione trennale come dicevano anche gli altri relatori e certamente la grande attenzione che abbiamo dato non solo alle province ma anche ai comuni che avessero una grande popolazione scolastica le precedenti programmazioni a livello nazionale ci avevano come dire dato delle programmazioni di enti piccoli ora non me ne vogliano i piccoli comuni che dico questo però sicuramente la popolazione scolastica è l'obiettivo del ministero dell'istruzione quindi maggiore il beneficio che va sulla popolazione scolastica maggiore il risultato che ovviamente noi come ministero conseguiamo e ci eravamo resi conto che al di là delle province anche i grandi capoluoghi pensiamo Roma Napoli non tanto Firenze che è stata sempre attenta a questo però le grandi città dove effettivamente grossi interventi di edilizia scolastica non ne avevamo trovati mentre abbiamo tantissime lamentele da parte di cittadini e dirigenti scolastici che ci evidenziano insomma che le scuole non sono in buona tenuta quindi per fare questo abbiamo pensato da una parte di inserire appunto un maggiore peso agli interventi che investano una maggiore popolazione scolastica proprio perché il nostro obiettivo è quello di far sì che tutti gli enti piccoli grandi medi e soprattutto insomma che tutti gli studenti d'Italia possano beneficiare di queste risorse come sapete sulla programmazione attualmente vi è già un investimento di un miliardo e quattro diciamo come ricavo netto stimato che più o meno possiamo presumere che a breve ripartiremo in sede di osservatorio perché il secondo step di questo di questo lavoro sarà quello di definire appunto le quote che spetteranno ad ogni ad ogni regione ma ci sono altre risorse come ministero sapete che abbiamo in questo momento in campo il fondo del comma 140 per comuni e città metropolitane già assegnato e che riguarda tutta una serie di interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico già partito ormai per le province perché le province si sono già profilate nel nostro sistema già stiamo partendo con le anticipazioni la prossima settimana notificheremo le linee guida per i comuni quindi anche i comuni potranno partire potranno richiedere le anticipazioni e anche questo consentitemi sarà una sperimentazione per noi abbiamo avuto sempre un po' una rigidità nell'andare a segnare le risorse questa è un po' più colpa mia perché vengo da un ente locale quindi conosco molto bene le dinamiche anche contabili quindi abbiamo sempre cercato di finanziare comunque interventi esecutivi o cose che ci potessero in qualche modo garantire la spesa con questo tipo di programmazioni attuiamo un'altra sperimentazione quella di anticipare un quantitativo diciamo di risorse per consentire lo sviluppo delle progettazioni confido che siate bravi nel cogliere questa occasione è che questo risultato sia positivo in modo da diventare un nuovo strumento per le future modalità di erogazione delle risorse quindi per venire incontro anche agli enti locali che hanno difficoltà nella progettazione perché avendo comunque una disponibilità di risorse già in partenza rispetto a un finanziamento hanno la possibilità di sviluppare di avere insomma quelle risorse che gli servono per sviluppare le progettazioni quindi dalla prossima settimana verranno notificate le linee guida quindi anche i comuni potranno partire ma come ministero abbiamo già chiesto ed ottenuto dal MEF proprio ieri abbiamo ricevuto la bozza di DPCM che assegna altri 2 miliardi e 9 al ministero dell'istruzione per diciamo l'edilizia scolastica che ovviamente andremo ad investire anche in questo caso in interventi di adeguamento sismico e che riguarderanno anche l'antincendio infatti come dicevo prima nel bando troverete una possibilità di richiesta di contributi di circa 50 mila euro per i comuni e 70 mila per le province e città metropolitane che consente in qualche modo di risolvere le piccole problematiche in materia di antincendio questo perché perché la logica della programmazione 2018-2020 è un po' diversa da quella precedente qui andiamo a finanziare interventi completi però ci rendiamo conto che spesso il problema di un ente non è quello di risolvere la totalità delle situazioni ma magari gli manca un certificato che è legato a dei piccoli lavori che non riesce a fare e che magari rispetto ad altri enti che hanno altre criticità non riuscirebbe comunque ad ottenere quindi abbiamo pensato di utilizzare lo strumento della programmazione anche per reclutare queste richieste quindi ci sono altri 2 miliardi e 9 confidiamo nel fatto che speriamo insomma che il futuro governo continui ad avere la stessa sensibilità che ha avuto il precedente su questa tematica e far sì che i finanziamenti diventano un po' strutturali non è utopico è vero che in Italia ci sono 42 mila edifici ma non è utopico pensare di metterli in sicurezza i giapponesi che sono stati invitati da noi in un evento che abbiamo fatto con l'Ox nel mese di maggio ci hanno dimostrato come in 10 anni attraverso una programmazione costante delle risorse sono riusciti a mettere in sicurezza i propri edifici scolastici se il nuovo governo avrà questa lungimiranza di programmare sistematicamente delle risorse e ci sia la serietà soprattutto degli enti locali nel utilizzarle al meglio non è utopico pensare che il patrimonio possa essere riqualificato in breve tempo ovviamente comincia un'altra stagione un'altra stagione di impegno per la regione perché avrà 120 giorni per poterci riconsegnare la programmazione il ministero che dovrà nel mese pensavo estivi ormai tutti i miei mesi estivi sono dedicati a questo redigere la nuova programmazione nazionale però il mio appello è soprattutto agli enti locali si possono investire centinaia e centinaia di risorse fare tutti i possibili pensieri su come andarle a derogare ma il ruolo più importante ce l'avete voi che avete soprattutto diciamo la responsabilità di pensare che andate a investire delle risorse su quella che è la futura generazione quando si investe sull'edilizia scolastica è una riflessione che io faccio sempre si può pensare in più bei modelli didattici ed innovativi ma senza le strutture che rendono possibile questo è assolutamente inutile parlare di istruzione quindi avete una responsabilità importante quella di investire sulle vostre comunità perché le scuole rappresentano il punto di riferimento di ogni comunità un sindaco che si rispetti deve investire sull'edilizia scolastica perché è la qualità dei servizi di una città che migliora investendo sull'edilizia scolastica quindi invito tutti voi ad essere seri nell'andare a progettare a scegliere persone che progettino bene perché quando le progettazioni sono di alta qualità l'esecuzione dei lavori ne risente pochissimo si investono meglio le risorse si eccelleri nella gestione delle risorse e si ottiene spesso poi il risultato finale che è quello di garantire la sicurezza e di vedere anche perché no delle scuole belle grazie grazie Paola per la competenza e anche per la passione a questo messaggio finale quindi davvero che apprezziamo e che di nuovo sottolinea appunto la finalità di questo incontro di questo evento che abbiamo voluto offrire alle amministrazioni bene io lascerei la parola ad Andrea non so se facciamo adesso il cambio di tavolo così poi tu introduci direttamente gli interventi ah vengono ok va bene allora rimaniamo qua buongiorno vi porto i saluti come diceva prima l'assessore di Sara Mele che doveva essere al mio posto io dovevo essere al posto ci siamo scambiati un po' i ruoli ecco io sono al posto di Sara che vi manda i suoi saluti sta seguendo l'evento in streaming e vi ringrazio per la partecipazione in particolare volevo ringraziare come è stato detto negli interventi precedenti questa nuova stagione che si è che si è concretizzata con il MIUR che si è concretizzata con ANCI con UPI c'è un rispetto al piano triennale precedente il 15-17 c'è stato veramente un cambiamento di passo nel 15-17 diciamo ci siamo adattati a quello che il Ministero chiedeva come programmazione la programmazione 18-20 l'abbiamo fatta insieme l'abbiamo fatta insieme sia come coordinamento delle regioni perché a livello di coordinamento abbiamo condiviso il provvedimento ma l'abbiamo fatta insieme ad ANCI ad UPI non solo ad ANCI e UPI l'abbiamo fatta insieme l'abbiamo fatta insieme al Ministero e all'interno del Ministero anche con la collaborazione l'aiuto della protezione civile per quanto riguarda la parte della sisma quindi c'è un aspetto nuovo sulla programmazione è una programmazione pensata anche da chi dovrà attuare questa programmazione dagli enti locali insieme volevo anche ringraziare prima è stato fatto un accenno da parte del Vice Sindaco Laura Galimberti che era la coordinatrice della struttura di missione che dal 3 di aprile è assessore all'istituzione del Comune di Milano mi ha mandato stamattina un messaggio ci saluta avrebbe voluto essere qui con noi ma purtroppo il ruolo che ricopre all'interno del Comune di Milano essendo anche arrivata ora non le consente di essere insieme a noi vi saluta vi augura un buon lavoro a tutti quanti un ultimo ringraziamento voglio farlo anche a chi a nostro parte tecnico parte tecnico della regione toscana e anche del MIUR alla ditta soluzioni che molti di voi conosceranno come supporto tecnico di tutta la parte dell'anagrafe dell'edilizia scolastica vedo che c'è qui Vladi ed l'ho visto da qualche parte ma c'è anche lui eccolo buongiorno volevo ringraziarli perché senza di loro io credo allora la parte della dell'anagrafe dell'edilizia scolastica in Toscana quindi senza di loro e la collaborazione nostra non sarebbe potuta consolidare e nascere non avremmo potuto fare perché poi diciamo il modello toscano è stato esportato su 17 regioni a livello nazionale e non ultimo il ministero ora si è avvalso di soluzioni per implementare il proprio sistema dell'anagrafe dell'edilizia scolastica quindi sono questi attori su cui si lavora quotidianamente costantemente a livello nazionale anche all'interno all'interno dell'osservatorio un ringraziamento anche a questo punto l'ultimo lo devo fare anche come tecnico a livello politico perché noi tecnici possiamo lavorare bene finché vogliamo ma se non abbiamo l'avvale e il supporto dei politici niente possiamo fare questo è un punto per ringraziare a livello nazionale dal sottosegretario all'assessore grieco alla Cristina Giacchi tutti quanti che ci hanno supportato lavorano insieme a noi affinché tutte queste scelte tecniche che noi adoperiamo vengano concretizzate nel quotidiano veniamo un attimino al cuore di questo incontro questo incontro lo abbiamo fatto come diceva l'assessore grieco perché siamo di supporto agli enti locali vogliamo diciamo che noi abbiamo già iniziato dei contatti con gli enti locali di accompagnamento sul coma 140 dei comuni per le province è stato fatto un incontro a livello nazionale lo scorso dicembre quindi cerchiamo di accompagnare gli enti locali sia nelle misure già concretizzate che come nell'incontro di oggi nelle misure che si prospettano quindi per accompagnarvi nella miglior programmazione possibile di darvi tutti gli strumenti possibili finché possiate meglio interpretare i bandi regionali questo bando mi è stato accennato ha una grossa novità mentre il piano precedente triennale si incentrava molto sull'adeguamento normativo ma soprattutto sulla celerità degli interventi questo ha un'altra ottica siamo riusciti finalmente con un lavoro appunto sinergico tra tutti gli attori a scalettare quelle che sono le priorità degli interventi sugli edifici scolastici come diceva il sessore greco prima non è inutile fare un cappotto sostituire l'infissa o un edificio scolastico quando poi il giorno dopo i colleghi della sismica fanno le verifiche e ce lo chiudono è un'esperienza che in questi anni abbiamo vissuto in alcuni casi sulla pelle sulla nostra pelle non parlo solo della regione toscana ma si parla come coordinamento anche a livello nazionale di queste situazioni quindi ci siamo detti anche con Paolo Aianto nel ministero cerchiamo di dare mettere in ordine di gratuare di importanza quello che è l'intervento su un edificio scolastico e appunto il decreto 47 del ministero 47 questo fa stabilisce che è importante che un edificio sia adeguato dal punto di vista statico quindi dinamico e statico quindi la prima regola è che se un edificio è appunto dal punto di vista sismico è a posto bene ci posso fare qualsiasi altro tipo di intervento se no niente lo devo adeguare e così è incentrato il decreto è un decreto che con con lo spirito che abbiamo inserito forse probabilmente faremo molti meno interventi rispetto a quelli che abbiamo fatto nei piani precedenti però riconsegneremo finalmente un edificio scolastico completo sicuro in questo magari devo ringraziare veramente Anci e Upir che contrariamente a quanto ha lo spirito che poteva essere precedente ci sono venuti in conto su questa parte che anche Anci e Upir utilizzeranno molti meno finanziamenti rispetto a precedentemente però consegneremo appunto come dicevo degli edifici che saranno finalmente sicuri per molti anni non ci sarà bisogno di intervenire su questi edifici scolastici non scendo molto nella parte tecnica poi affronterà Antonio Casile farà l'intervento sulla specifica del piano volevo solo accennare appunto all'interesse che abbiamo che abbiamo avuto per quanto riguarda le province riservando il 40% del finanziamento e interventi di competenza delle province c'è stato nello scorso piano triennale una grande discrasia fra le province le province hanno preso molti interventi meno rispetto a quelli che sono i comuni e anche all'interno delle province c'è stata una grossa differenziazione tra alcune province che hanno preso zero e alcune province hanno preso molti finanziamenti in più con questo si cerca e anche con l'aiuto dopo sarà uno degli interventi successivi con l'aiuto e il supporto alla progettazione cercheremo di incrementare e di aiutare le province l'ultima cosa che volevo dirvi è per quanto riguarda la parte dell'antincendio nella delibera regionale abbiamo come avete visto fatto due tipi di allegati uno che riguardava il piano triennale di programmazione e uno che riguardava la parte antincendio per quanto riguarda poi l'attuazione è stato approvato solamente il decreto lo abbiamo certificato ieri pomeriggio alle 15 il decreto di attuazione del piano triennale e quello vi diceva appunto l'assessore mentre il decreto di attuazione della parte antincendio lo predisporremo la settimana prossima perché questo decreto avrà dei tempi mentre la programmazione triennale noi la dobbiamo consegnare al Ministero entro il 2 di agosto la parte dell'antincendio abbiamo un po' di tempo in più per predisporre l'elenco degli interventi antincendio che avranno una vita a sé l'abbiamo voluto presentare insieme nella delibera del piano triennale perché si abbia un'ottica generale perché vanno inquadrati all'interno del piano triennale però ha una vita a sé perché avranno appunto come diceva Paola prima avranno un'attuazione particolare perché queste sono destinate a piccoli interventi non sono destinati a interventi sostanziali sugli edifici scolastici ma sono interventi per i quali devo sistemare una maniglia mi mancano un'uscita di sicurezza insomma sono piccoli interventi quindi questi che mi devono portare all'ottenimento dell'ascita antincendio altra cosa è quella del piano triennale che affronta interventi molto più sostanziosi li abbiamo voluti mettere insieme ma separati perché così Dente Locale può decidere di intervenire su una parte o sull'altra parte conoscendo che hanno due vite separate e due tempiste di attuazione separate infatti contiamo che sul decreto di approvazione delle modalità dell'antincendio i tempi come dicevamo con Paola non potremo consentire agli enti locali di fare domanda anche fino al mese di luglio in oltretutto tanto il ministero ci ha detto che i finanziamenti non verranno attuati in tempi molto brevi quindi su questo avrà una vita separata quindi dicevo appunto l'ottica è la stessa viaggiano su binari separati voi potete scegliere se su interventi sostanziosi utilizzare la parte dell'antincendio cofinanziando oppure utilizzarla tutta oppure andare direttamente sul piano triennale ecco questo è un inquadramento di questo piano io non ruberei altro tempo a quelli che saranno gli interventi veri e propri di presentazione del piano e gli altri interventi di supporto al piano poi se avanza del tempo poi magari ve lo concediamo per fare delle domande e aprirei la parte tecnica con il dottor Francesco Iacobucci che è il nucleo di valutazione e controllo dell'agenzia per la coesione territoriale è il referente del progetto della task force dell'edilizia scolastica la task force della regione toscana come quasi la maggior parte delle regioni italiane ha aderito a questo progetto dell'agenzia di coesione che dà la disposizione al territorio regionale di una serie di professionisti che sono di supporto agli enti locali poi vi spiegherà anche meglio Francesco Buongiorno a tutti desidero ringraziare la regione toscana e mi accodo ai saluti alla dottoressa Mele e all'architetto Andrea Gabrielli che ci hanno ospitato e ringrazio per la disponibilità che ci ha mostrato in molteplici occasioni il mio intervento vuole a questo punto confermare quello che è stato già illustrato da chi mi ha preceduto attraverso magari delle immagini che vi mostrerò parlando un po' di un progetto trasversale che è nato in supporto al sostegno dell'edilizia scolastica partirei quindi dal 2014 che è un anno particolare come è stato detto c'è stato un'impennata delle risorse che sono state stanziare su questo specifico settore e in quest'anno viene in quell'anno è stata restituita la struttura di missione presso la presidenza del consiglio e in particolare l'agenzia per la coesione territoriale di cui faccio parte rappresento un componente del nucleo di valutazione e controllo che è una struttura incardinata all'interno dell'agenzia e si occupa di fornire supporto all'attuazione dei programmi finanziati con risorse nazionali e comunitari quindi il progetto che adesso di cui vi parlerò e che ha dato sostegno e supporto a questo settore è incardinato dentro questo nucleo dicevo nel 2014 è stata restituita questa struttura tecnica questo progetto finanziato nell'ambito del vecchio ciclo di programmazione 713 è nato in collaborazione principalmente con tre regioni inizialmente con tre regioni dell'obiettivo convergenza per supportarli nell'attuazione e nella conclusione dei programmi finanziati con risorse FESR del vecchio ciclo come dicevo quindi il nucleo svolge questa attività di accompagnamento e supporto accompagna gli enti nella risoluzione degli interventi individua le azioni e le criticità per le azioni per il loro superamento diciamo quindi la task force si innesta in questa si situa all'interno di questo nucleo con una modalità di intervento che è basata su una stretta collaborazione interistituzionale con il MIUR il MIT e le regioni che volontariamente hanno aderito a questa iniziativa il cui scopo è quello di accelerare l'attuazione tempestiva degli interventi di edilizia scolastica la task force realizza azioni di accompagnamento alle amministrazioni regionali agli enti locali beneficiari e avvalendosi di squadre territoriali di partire su basi su basi regionali ed è costituita da tecnici da tecnici esperti qualificati individuati tramite selezione pubblica la task force oggi opera in 15 regioni nel 2017 il progetto è stato potenziato sul nuovo ciclo di programmazione 14-20 questo ha permesso di realizzare un'azione più incisiva sull'edilizia scolastica e ci ha permesso di accompagnare un maggior numero di interventi attualmente hanno fatto richiesta di adesione ed sono state inglobate nel progetto ulteriori tre regioni che sono la Sardegna le Marche e il Friuli anche la Toscana ovviamente è aderito a questo progetto con la nuova programmazione è stata quindi accompagnata dalle squadre i rapporti che questa struttura di supporto all'edilizia scolastica la svolge all'interno di un protocollo d'intesa siglato con gli enti di riferimento quindi la struttura di missione come dicevo prima il MIUR e il Ministero delle Infrastrutture che in qualche modo hanno gestito e gestiscono le risorse per l'edilizia scolastica questa slide non fa altro che confermare quello che è stato detto precedentemente le risorse stanziate negli ultimi anni sono ingenti qui sono ricomprese un po' tutte le linee di finanziamento che sono state attivate quindi sono incluse le risorse nazionali quindi il piano triennale il Mutube il comma 140 il programma scuole sicure e anche le risorse stanziate con i fondi comunitari quindi il PON 1420 avviato nelle regioni obiettivo convergenza in quest'estate i POR regionali anche loro hanno dedicato una risorse specifiche sull'edilizia scolastica in particolare come è stato confermato anche dalla dottoressa Iandolo c'è stato un cambio di passo si è passati da risorse destinate esclusivamente all'efficientamento energetico degli edifici penso ai programmi quindi il PON e il PON e il PONERGIA del Ministero dell'Ambiente a una programmazione e a un indirizzamento delle risorse verso l'adeguamento strutturale degli edifici scolastici questa curva conferma nella parte a destra l'incisività con cui il governo ha avuto sull'edilizia scolastica con le risorse che sono state stanziate rispetto al periodo nell'ultimo ventennio notiamo degli innalzamenti nel periodo 2004 2010 2012 dovute essenzialmente allo stanziamento di risorse straordinarie purtroppo allocate in occasione di eventi drammatici come il terremoto di San Giuliano di Puglia o il crollo del soffitto nel liceo di Torino questa programmazione poi nel 2014 ha avuto un innalzamento positivo con l'avvio della programmazione trennale del programma scuole sicure e in ultimo del fondo comma 140 è chiaro che su queste su queste risorse le risorse non mancano non mancano e questo è ormai palese e c'è l'opportunità di risolvere gli aspetti in toto di un edificio scolastico quindi risolvere i problemi che riguardano la sicurezza strutturale la sicurezza impiantistica e non ultimo ridurre il consumo di energia degli edifici scolastici confermo l'indirizzo diciamo programmatico delle linee sulla sicurezza strutturale antisismica dove è possibile presentare le candidature adesso col nuovo piano trennale 18-20 ma anche il comma 140 ha all'interno per la quasi totalità interventi di nuove costruzioni o di adeguamenti e miglioramenti sismici la sostenibilità energetica degli edifici è sostenuta da strumenti incentivanti come il conto termico del GSE e dalla possibilità di ricorrere a prestiti agevolati tramite il fondo chioto del ministero dell'ambiente non ultimo la possibilità di utilizzare spazi finanziari quest'anno sono stati utilizzati spazi per 384 340 milioni sono stati concessi agli enti locali nell'utilizzo di interventi di edilizia scolastica e si è riusciti anche a includere il pagamento delle progettazioni degli interventi ma quello sulla quale sono piacevolmente sorpreso è le risorse che sono state destinate alla progettazione che è un elemento come confermato da chi mi ha preceduto un elemento di importante perché rappresenta il primo passo per ottenere un intervento di buona qualità normalmente le risorse che vengono stanziate soprattutto anche quelle dei fondi strutturali non riescono a contemplare il finanziamento delle progettazioni perché sono destinate integralmente all'attuazione di interventi quindi si presuppongono la presenza di progettazioni definitive o esecutive di interventi sul patrimonio esistente questo invece è una nuova possibilità per gli enti locali di poter attingere a risorse specifiche per il finanziamento delle progettazioni appunto come oltre alla linea del MIUR sulle indagini di vulnerabilità sismica anche il MIT ha stanziato delle risorse per il prossimo triennio 18-19-20 con una dotazione annua di 30 milioni è una forma di cofinanziamento delle progettazioni definitive preliminari e definitive anche qui verrà effettuato un riparto delle risorse tra le province e le comuni e le città metropolitane mentre per le province e le città metropolitane le risorse verranno allocate direttamente presso gli enti per i comuni verrà fatto un bando e un avviso pubblico probabilmente gestito da cassa l'edilizia scolastica è particolarmente la gestione dell'edilizia scolastica è particolarmente complessa nel senso che appunto le risorse vengono allocate dai ministeri dallo Stato attraverso i ministeri la presidenza del Consiglio e dall'Unione Europea la programmazione spetta alle regioni e l'attuazione agli enti locali quindi è necessario in questa filiera costruire un percorso amministrativo il più fluido possibile di supporto appunto a questa governance è stata istituita la Task Force per l'edilizia scolastica che svolge un po' il ruolo di aggregazione crea le sinergie per migliorare e facilitare l'attuazione degli interventi e superare le criticità attraverso un contatto diretto con gli enti locali è presente quindi costantemente sul territorio quindi quando si attiva l'intervento di edilizia scolastica entrano in gioco numerosi attori che hanno necessariamente devono coordinarsi per gestire un patrimonio scolastico di oltre 42.000 edifici scolastici lì trovate i dati che il progetto Task Force edilizia scolastica ha raggiunto da ottobre a marzo 2017 dove appunto in quel periodo l'attività è stata orientata su 12 regioni e il numero di interventi presidiati cioè presi in carico dalla struttura è notevole oltre mille interventi con un importo presidiato di circa un miliardo di euro e sono stati eseguiti mille sopralluoghi l'attività è praticamente continua nel tempo quindi le squadre operano continuamente sul territorio diretto contatto con gli enti locali beneficiari in interventi di finanziamenti sull'edilizia operiamo sulle regioni individuando gli ambiti dove di maggior interesse sulle quali le regioni manifestano l'esigenza di un maggior presidio e presidia distintamente tutte le linee di finanziamento l'attività si è particolarmente concentrata su Mutubei perché rappresentano una linea di nuova generazione dove è presente in tutte le regioni ma offre un accompagnamento anche alle linee di vecchia generazione per le quali mi faccio riferimento ad esempio alla 289 e alle derivere cipe del provveditorato per il quale penso entro la fine dell'anno riusciremo ad avere una riprogrammazione delle economie e quindi dare corso ad ulteriori interventi concludo confermando mi ha preceduto la dottoressa Iandolo dicendo che le risorse oggi ci sono non è sufficiente accelerare la spesa non è sinonimo di un indicatore diciamo chiaro dell'efficienza di un di processi di programmazione e gestione di un'amministrazione l'importante è più importante avere la qualità dei progetti dopo viene automaticamente l'accelerazione della spesa e automaticamente si rispettano i tempi ecco la qualità progettuale è fondamentale la riscontriamo nei territori che incontriamo negli enti che incontriamo sui territori riscontriamo questa difficoltà degli enti ad effettuare progettazioni di elevata qualità oggi c'è l'opportunità il governo attraverso le amministrazioni ha messo a disposizione gli strumenti per risolvere questo gap grazie 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 a Francesco per l'intervento ora veniamo alla presentazione del piano triennale abbiamo fatto un accenno generale ora affrontiamo con Antonio Casile che è una delle altre colonne del settore su quanto riguarda la parte dell'edilizia della nave dei studenti la presentazione vera e propria di quello che sarà il piano triennale 2018-2020 buongiorno a tutti grazie Andrea diciamo nel mio intervento cercheremo di dare qualche dettaglio in più rispetto a quanto è già stato esposto nei precedenti sostanzialmente mi ricollego anch'io al DL 104 che alla fine è stato il procedimento che comunque ha dato via alla nuova stagione di programmazione triennale ha dato via alla nuova programmazione triennale comunque stanziando una serie di risorse anche molto importanti attraverso un procedimento che comunque è stato abbastanza articolato ecco molti di voi comunque hanno partecipato insomma come enti locali comunque coinvolgendo molti soggetti insomma il processo diciamo per arrivare fondamentalmente a realizzare un'opera insomma ha comportato molti molti passaggi tra cui comunque il lavoro a livello nazionale che ha coinvolto comunque altri soggetti come la banca degli investimenti la cassa depositi e prestiti e anche tutti insomma gli enti locali ben rappresentati insomma a livello nazionale comunque diciamo alla fine lo scorso piano ha portato per quanto riguarda in Toscana ora scusate la slide è venuta un po' sfalzata comunque diciamo ha una raccolta di circa 525 progetti da parte sia di province che di comuni la stragrande maggioranza dei progetti come già stato detto è stato presentato appunto dagli enti locali comunali e a questi fondamentalmente poi successivamente sono state assegnate effettivamente la maggior parte delle risorse questo è quello che più o meno in queste tre annualità del precedente piano è stato fatto è già stato accennato appunto che sono stati stanziati per la regione toscana circa 140 milioni di cui diciamo 109 a comuni e 31 milioni alle province anche qui si può vedere comunque nella slide precedente che comunque effettivamente anche il comportamento è stato un po' eterogeneo perché ci sono stati diciamo territori che hanno avuto la possibilità comunque in iniziativa per presentare più progetti altri un po' meno parallelamente comunque il lavoro è stato fatto diciamo per gestire questo piano triennale precedente a livello nazionale come già stato detto c'è stato un grosso lavoro ecco anche di concertazione sia a livello politico ma soprattutto anche a livello tecnico che comunque ha portato anche alla condivisione di alcuni dei provvedimenti anche di livello nazionale come diceva giustamente Andrea quindi il tutto diciamo il via fondamentalmente a questa nuova programmazione è stato dato appunto dal decreto interministeriale 47 che è stato recentemente pubblicato in gazzetta e per la parte invece dell'antincendio che veniva accennata precedentemente comunque si rifà comunque a delle decisioni dell'osservatorio scolastico sull'edilizia scolastica che comunque diciamo hanno paventato comunque diciamo ipotizzato appunto questo piano di investimenti specifico sull'antincendio ecco noi come regione toscana ecco vi riporto qui un attimino in sintesi quali erano i punti salienti del decreto interministeriale che comunque diciamo potete esaminare guardando il decreto si fa riferimento ovviamente alle procedure alle tempistiche per la predisposizione dei piani il decreto stabilisce quali sono diciamo anche i criteri per la definizione di questi piani in termini anche di priorità è stato detto ecco l'antincendio comunque è la priorità principe di questo di questo piano i criteri anche di ammissibilità e non ammissibilità ed eventualmente le spiacevoli ipotesi di revoca e poi infine il monitoraggio che comunque è quello che coinvolge poi anche gli antilocali nella parte di erogazione poi delle risorse per quanto riguarda diciamo la parte dell'antincendio come già stato detto è stato ipotizzato comunque che l'intervento gli interventi comunque riguardino una categoria di opere abbastanza limitate che possa consentire magari con importi non necessariamente molto consistenti di risolvere una problematica ed acquisire diciamo le certificazioni o sia del si voglia necessarie anche dal punto di vista normativo per tutti gli antilocali allora diciamo una differenziazione più o meno è già stata è già stata riportata negli interventi precedenti appunto sul fatto che il precedente piano triennale comunque è stato diciamo elaborato nell'ottica sì della messa a norma chiaramente degli edifici scolastici senza diciamo una specifica esigenza diciamo non era ben noto appunto dal punto di vista informativo quale fosse effettivamente il fabbisogno poi in termini di opere dal punto di vista degli antilocali si è dato molto molta importanza alla velocità con le quali potevano essere realizzate queste opere in termini di canterabilità infatti se vi ricordate il precedente piano comunque valutava in maniera molto positiva eventuali progetti esecutivi è subito canterabile un'altra cosa che mi preme anche dire è che nel precedente piano quanto meno quello della regione toscana era stato dato anche un tetto di spesa per le opere è stato dato un tetto di spesa come scelta per poter diciamo come dire andare a intervenire o finanziare un numero più esteso di soggetti il prezzo da pagare ovviamente è stato dato che queste opere comunque diciamo avendo un tetto di spesa non sempre potevano essere diciamo sostenute dagli enti ecco nel nuovo piano invece appunto è stato dato come si diceva un focus o comunque un'attenzione specifica sull'adeguamento sismico è stata appunto anche data importanza al discorso e alle difficoltà che comunque si erano rilevate da parte dell'amministrazione provinciale per quanto riguarda gli edifici di secondo grado e quindi è stata creata appunto questa riserva del 40% sulle province e inoltre diciamo non è stato dato nessun tetto di spesa principalmente perché comunque se diciamo l'obiettivo è quello di consegnare un edificio completamente rinnovato completamente a norma in tutti i suoi aspetti chiaramente diciamo non era possibile limitare le spese degli enti per poter far questo quindi questa è stata un po' la scelta diciamo politica da punto di vista del cronoprogramma appunto giusto per dare un po' delle indicazioni temporali siamo partiti ufficialmente lo start è stato dato dalla pubblicazione in gazzetta del decreto interministeriale il 4 aprile e in questo momento ci troviamo in una fase intermedia di questi famosi 120 giorni in cui le regioni dovranno elaborare i propri piani triennali entro praticamente agosto il 2 agosto del 2018 successivamente c'è tutta una fase diciamo che riguarda più che altro l'apparato statale in termini di definizioni delle risorse assegnazioni delle risorse e comunque provvedimenti che autorizzano poi gli enti locali infine ad avviare le proprie procedure di gara questo presumibilmente perché comunque questa è un'ipotesi che poi è subordinata poi ai tempi di approvazione effettivamente degli atti potrebbe essere che gli enti potrebbero essere autorizzati più o meno ad avviare le procedure di gara intorno alla fine del 2018 da quel via avranno 365 giorni a disposizione per ottenere l'aggiudicazione dei lavori quindi più o meno presumibilmente si dovrebbe arrivare intorno ai primi mesi del 2020 ecco più o meno per iniziare quantomeno diciamo la consegna dei lavori questo diciamo a un'ipotesi poi vedremo se sarà rispettata ecco appieno qui vi riporto più o meno quello che è stato fatto chiaramente a livello regionale per recepire il decreto interministeriale come già stato detto è stata approvata appunto la derivere a 340 il 3 aprile scorso che approva sostanzialmente questi due allegati uno riguarda appunto i criteri per la programmazione triennale di cui parliamo ora e l'altro è l'allegato B che riguarda specificamente gli interventi sull'antincendio quindi questo famoso elenco per la raccolta di questi progetti sull'antincendio per adesso appunto ci siamo concentrati inizialmente appunto perché come dire lo start era già stato dato sulla parte del piano triennale abbiamo approvato come vedete la data è veramente recente perché si parla di ieri il decreto dirigenziale 5137 che approva appunto i criteri e le modalità per la formazione del piano per la regione toscana quindi se accedete alla banca dati potete già scaricarvi l'avviso che noi abbiamo prodotto entro un po' nel merito di questo avviso quindi tutte le indicazioni che vi sto dando poi le ritroverete chiaramente nel decreto in maniera specifica nell'allegato A il patrimonio edilizio interessato sostanzialmente come nel precedente decreto si parla di edifici edifici di proprietà pubblica edifici di proprietà pubblica che comunque devono avere la specificità di ospitare un tipo di istruzione scolastica statale quindi sostanzialmente tutte le scuole statali fatta esclusione per esempio delle scuole di infanzia paritaria anche se sono gestite a livello comunale sono compresi i CPA un'altra eccezione ad ogni modo è stata fatta per quanto riguarda i poli dell'infanzia quindi è possibile andare a intervenire anche nei famosi poli dell'infanzia fatto salvo diciamo la condizione che debbono essere ospitati comunque da scuole comunque dell'infanzia statali quindi diciamo si ha la possibilità di intervenire su poli di infanzia quindi su strutture che ospitano anche servizi per la prima infanzia a condizione che però siano diciamo in comune con delle scuole statali ovviamente è possibile poter ricorrere alla costruzione di nuovi edifici purché come prima detto insomma siano ospitanti con ospitano scusate istruzione scolastica statale abbiamo pensato ovviamente anche per diciamo non avendo a disposizione risorse infinite di calmerare un po' l'elenco di domande che potrebbe arrivare dando comunque un buon margine agli enti locali si parla di due terzi diciamo arrotondato per difetto del numero di edifici scolastici di proprietà scusate per eccesso del numero di edifici scolastici di proprietà degli enti locali quindi sostanzialmente rispetto a quanto certificato in anagrafe dell'edilizia scolastica noi considereremo come numero massimo i due terzi arrotondato per eccesso quindi mi raccomando verificate il vostro patrimonio edilizio attraverso l'anagrafe dell'edilizia qualora soprattutto ci siano edifici che malaguratamente non siano scensiti ma suppongo che non sia così ogni domanda dovrà essere riferita a un singolo edificio quindi questo è comunque analogo a quanto è stato fatto precedentemente al piano al precedente piano perché comunque come dire il nostro la nostra unità di riferimento è il singolo edificio non possiamo prendere in considerazione i progetti che comunque facciano riferimento a più molteplicità di edifici ecco vi do anche delle date giusto per mettere un po' di ansia intanto ci sono molti tecnici dei comuni che comunque dovranno mettersi sotto in questo periodo si partirà presumibilmente poi questa data potrebbe leggermente slittare comunque suppongo che ancora non sia nessuno pronto a caricare la domanda a partire dal 23 aprile ma potrebbe slittare di qualche giorno l'apertura del portale e si chiuderà inesorabilmente il 23 giugno 2018 che è il termine ultimo per la presentazione delle domande vi ho messo qualche screenshot giusto come come refresh diciamo come promemoria su per i colleghi magari che comunque in questi anni non hanno avuto modo per fortuna di di accedere comunque quantomeno alla parte dei finanziamenti dovete sostanzialmente collegarvi al portale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica www.ediliziascolastica.regione.toscana.it spero che tutti tutti voi conosciate il portale qualora non sia così vi invito comunque a mettervi in contatto con noi e comunque eventualmente anche per per le password e quant'altro all'interno del portale troverete tutto il vostro patrimonio edilizio e le operazioni che dovrete fare sostanzialmente sono queste una preliminare che riguarda la verifica effettivamente della completezza dei dati che sono inseriti in anagrafe lo dico che è preliminare perché questa è una condizione necessaria per poter andare avanti con la procedura cioè il sistema vaglierà effettivamente che le informazioni presenti nell'anagrafe siano complete e anche coerenti questo perché comunque diciamo il patrimonio informativo è per noi necessario per poter fare le dovute valutazioni oltretutto questo patrimonio informativo fa parte diciamo di una condivisione dei dati che coinvolge anche il sistema nazionale dell'edilizia scolastica con l'anagrafe nazionale e quindi comunque è una condizione che anche il ministero si aspetta che sia soddisfatta dopo aver verificato questo e lo potete verificare anche banalmente sostanzialmente guardando il colore di questo pallino che è evidenziato se il pallino è di colore verde siete a posto se è di colore rosso probabilmente dovete fare qualche aggiornamento il sistema poi vi dirà anche il tipo di aggiornamento e quale informazione dovete andare a verificare successivamente potete diciamo accedere a un modulo di finanziamento che stiamo completando in questi giorni cliccando semplicemente su questo pallino che si chiama finanziamento il modulo sarà abbastanza semplice vi verranno richieste molte delle informazioni che sono presenti nel decreto diciamo dell'avviso dopodiché a fine di questa procedura il sistema genererà quella che è la domanda di finanziamento che consiste in una lettera che riporta in sintesi tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie vi invito appunto a completare la procedura stampare la lettera e poi procedere all'invio della domanda tramite posta elettronica certificata o interpro per gli enti che l'hanno attivato riportando mi raccomando anche l'ID della domanda che il sistema genera questo ve lo chiedo come cortesia perché negli anni passati è successo che gli enti inviassero diciamo domande con oggetti molto strani e per noi poi anche lo smistamento del protocollo insomma diventa anche difficoltoso e ci comunque fa dilatare i tempi quindi se potete cortesemente attenervi alle indicazioni riportate come vi dicevo il termine per l'invio delle domande è il 23 giugno entro un po' più nello specifico nelle tipologie di intervento che è comunque una parte abbastanza importante e decisiva le tipologie di intervento che comunque noi abbiamo ricevuto dal decreto interministeriale sono sostanzialmente la tipologia che è l'adeguamento sismico o il miglioramento sismico laddove diciamo l'edificio per motivi di vincoli non sia adeguabile sismicamente ma solo migliorabile in seconda battuta scusate per la punteggiatura che è saltata abbiamo gli interventi finalizzati diciamo all'ottenimento del certificato di agibilità e comunque della messa a norma in generale tra cui ovviamente l'antincendio e quant'altro poi abbiamo riportato comunque per non venire meno a eventuali esigenze comunque ci sono da parte degli enti locali anche eventualmente ad ampliamenti e nuove costruzioni che comunque rivestano un carattere più che altro relativo a esigenze specifiche didattiche laddove si vuol creare un nuovo edificio non in sostanza perché l'edificio in questione ha delle carenze effettivamente di messa in sicurezza ma semplicemente per altri motivi abbiamo riportato anche semplicemente altri interventi di carattere generale che ci serviamo di valutare ovviamente queste tipologie hanno una valenza diciamo anche di come dire di peso ecco come già stato detto la parte dell'antisismico sarà quella che peserà prevalentemente nella valutazione e via via scalare ecco mi preme dire una cosa anche diciamo a livello procedurale vi sarà richiesto in fase di compilazione della domanda di segnalare qual è la tipologia di intervento prevalente cosa intendo per intervento prevalente chiaramente il progetto può riguardare vari aspetti quindi si può essere sicuramente un intervento che riguarda l'antisismico l'antincendo e altre caratteristiche però dal punto di vista diciamo del peso dell'intervento vi viene richiesto di fare una valutazione dal punto di vista del quadro economico sulla parte di lavori che incide di più sulla parte del quadro economico sostanzialmente e quindi identificare qual è la tipologia di lavoro prevalente questo ve lo chiedo perché poi in fase di attribuzione dei punteggi noi ne dovremmo tener conto un'altra specifica diciamo che importante da tener conto è questa qui per la parte di adeguamento sismico ed adeguamento antincendio è possibile eventualmente ricorrere anche a nuove costruzioni questo perché ovviamente ci possono essere dei casi in cui mettere mano alla struttura esistente può essere sostanzialmente non conveniente dal punto di vista tecnico economico quindi diciamo accetteremo anche questo tipo di domande anzi saranno anche valutate in termini di attribuzione dei punteggi in maniera molto molto alta laddove però venga presentata ovviamente una relazione che attesti effettivamente questa condizione di non essere tecnicamente economico dal punto di vista degli interventi non ammissibili diciamo sono situazioni abbastanza limitate che però diciamo vanno riportati come vi dicevo prima non c'è la possibilità di finanziare strutture che non ospitino scuole che non siano statali fatto salvo diciamo gli interventi su i poli dell'infanzia purché appunto abbiano una scuola statale all'interno interventi magari anche diciamo banale dirlo però che prevedano sistemazioni al verde o al red urbano diciamo in maniera esclusiva ecco oppure che riguardino solamente le pertinenze scolastiche e non intervengano sulla struttura e sull'edificio ovviamente si parla di altri finanziamenti non sono finanziabili interventi che comunque beneficiano di altri finanziamenti chiaramente invece è consentito il cofinanziamento attraverso altre forme e quindi diciamo è possibile chiaramente cofinanziare diciamo fino al raggiungimento della quota richiesta insomma non è possibile finanziare interventi per le quali siano state già avviate le procedure di gara quindi vi dovete attenere attentamente diciamo alle disposizioni dei nostri decreti perché altrimenti diventa un po' un problema ecco in passato ci sono stati casi anche in cui purtroppo non è stato possibile intervenire perché diciamo sono state venute meno queste condizioni ci sono diciamo alcune condizioni stringenti diciamo che sono state inserite appunto per ricepire un po' alcune indicazioni che sono state date dalla normativa nazionale per esempio per quanto riguarda gli edifici che ricadono nelle zone sismiche 1 e 2 ora qui in Toscana abbiamo solo la zona 2 e in maniera precisa per gli interventi che vogliono fare diciamo un adeguamento o un miglioramento sismico richiediamo obbligatoriamente ma è una cosa anche abbastanza scontata che venga diciamo allegata la verifica di vulnerabilità sismica questo per dare anche un po' uno stimolo agli enti locali ad adoperarsi a fare comunque questo tipo di verifica che comunque è prevista dalla norma ecco quindi non è nulla diciamo in più di quanto non deve essere fatto e in più comunque anche per noi per riuscire a dare anche una valutazione ben precisa ai vostri progetti perché magari in passato è capitato comunque che venissero valutati diciamo in maniera non molto precisa interventi di adeguamento sismico attraverso diciamo le informazioni che comunque non erano molto precise e molto specifiche invece attraverso una verifica si riesce comunque ad avere effettivamente la situazione e la realtà dello stato di fatto ad ogni modo nei casi in cui il comune non si sia ancora attrezzato a predisporre queste verifiche diciamo il nostro avviso prevede che comunque queste domande vengano inserite nel piano non risulteranno eventualmente finanziabili nel momento in cui verranno stanziate le risorse ma verranno comunque inserite nel piano e saranno soggette eventualmente dell'aggiornamento quindi sarà possibile nelle varie fasi di aggiornamento dei piani nel corso del 2019 e del 2020 andare a integrare la documentazione richiesta altra condizione è quella per gli interventi che non riguardano l'adeguamento sismico quindi qui vi chiedo di fare molta attenzione perché è una condizione capisco abbastanza stringente però va nell'ottica comunque dei ragionamenti che sono stati fatti in precedenza sul discorso di voler consegnare effettivamente dopo un intervento un edificio che sia effettivamente a norma e comunque infiocchettato ecco quindi per gli interventi che non riguardano l'adeguamento sismico noi accetteremo queste domande purché comunque il comune o la provincia ci faccia due asseverazioni cioè per gli edifici che ricadono nelle zone 1 e 2 è necessario comunque l'asseverazione che l'edificio sia adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle norme vigenti in materia di tecnica di costruzione per gli altri edifici ricadenti nelle zone 3 o 4 ci deve essere la dichiarazione che comunque la struttura chiaramente è stata diciamo realizzata in conformità con le normative vigenti all'epoca e comunque non ci sia la condizione per questi edifici che debbono essere sostenuti oltreo riverifiche come per esempio dove può essere stata modificata la zona sismica rispetto a quella di progetto allora da punto di vista dei livelli di progettazione c'è stata appunto come si diceva diciamo l'ipotesi di essere un po' più inclusivi chiaramente si parte dai progetti esecutivi è stato fatto diciamo anche una precisazione sul fatto che diciamo molto spesso ci sono stati presentati progetti esecutivi che comunque ancora magari non avevano sostenuto le procedure di valutazione quindi daremo un peso un po' diverso chiaramente ai progetti che sono immediatamente canterabili e successivamente poi ai progetti esecutivi che comunque ancora devono essere sottoposti alla validazione progetti definitivi e infine i progetti di fattibilità tecnica economica che corrisponde più o meno all'ex preliminare abbiamo dato la possibilità anche di presentarci semplicemente diciamo delle domande che contemplassero il solo documento di fattibilità delle alternative progettuali che è una documentazione che poi serve per edigere gli altri stati e i livelli progettuali questo per consentire comunque di essere il più inclusivi possibili dato comunque la ristrettezza comunque si capisce dei tempi perché due mesi per progettare chiaramente per gli enti sono molto pochi però abbiamo dato la possibilità di essere inseriti nel piano in maniera tale che poi durante le le fasi in cui il piano verrà aggiornato sarà possibile per gli enti comunque andare a integrare la loro progettazione con livelli successivi e comunque andare anche a modificare poi effettivamente gli importi richiesti questo per cercare di essere il più inclusivi possibili faccio un attimino un focus appunto parlavamo di punteggi ovviamente la parte dell'adumento sismico ha la parte diciamo predominante con un punteggio massimo che può arrivare al 500 punti i punti massimi di tutto il bando saranno 1000 il punteggio di 500 è ottenuto diciamo facendo una valutazione su quello che è effettivamente l'indice di rischio e anche per questo che poi vi sono state richieste le verifiche sostanzialmente si parte da una condizione diciamo effettivamente di gravità in cui il rischio sismico risuppone un indice sotto lo 0,2 poi si va diciamo proporzionalmente fino al rischio 0,8 si dà un punteggio 0 per il rischio superiore a 0,8 perché comunque è quello che la normativa diciamo previgente prevede come livello minimo di sicurezza quindi come vi dicevo questo questo indice di rischio vi viene richiesto e ci serve a noi per fare questa valutazione anche in termini di punteggio avete diciamo un paio di possibilità per fornirci questo questo indice questo indice di rischio attraverso due modalità diciamo attraverso un livello di conoscenza L2 con le verifiche sismiche effettuate con l'NTC 08 oppure eventualmente con delle verifiche fatte con le PCM 3728 tutte queste cose che vi sto dicendo diciamo non sono frutto diciamo del lavoro solo di dello staff qui della regione toscana nella persona del sottoscritto di Andrea Gravelli ma è stato diciamo un lavoro concertato a livello nazionale soprattutto con i responsabili della protezione civile quindi posso capire che magari possano essere delle condizioni effettivamente un po' stringenti però diciamo è un po' è stato diciamo recepito quello che era l'indicazione poi a livello nazionale per quanto riguarda poi gli altri interventi si passa a livello la parte sull'agibilità e l'antincendio che contempla una serie di interventi che ritroverete comunque anche nell'avviso che contempla un punteggio massimo di 400 euro sul volo perché qui comunque c'è una casistica di interventi anche questi sono stati declinati attraverso un lavoro concertato sia con i rappresentanti appunto di ANCI e UPI a livello tecnico anche con il ministero e quindi diciamo si è fatta un po' una casistica di quelli che sono gli interventi più comuni come vi dicevo abbiamo dato la possibilità comunque seppur valutata in maniera abbastanza minima di intervenire facendo degli ampliamenti delle nuove costruzioni oppure eventualmente anche altri interventi che contemplino specificamente solo tipologie di interventi che non sono state contemplate prima per esempio un banale cappotto termico banale per modo di dire che diciamo non intervenga su altre situazioni per quanto sia diciamo importante abbiamo dovuto considerarlo un attimino meno tengo a precisare che comunque diciamo questi interventi sono lo stesso finanziati cioè il progetto non è che distingo tra le opere qui si tratta semplicemente di valutazione il progetto poi verrà finanziato per intero qualsiasi sia la tipologia delle opere che sono contemplate qui ho messo diciamo appunto riferimento al discorso della tipologia prevalente perché appunto vi verrà inizialmente richiesto di indicare qual è la tipologia di opere prevalente perché appunto questi punteggi relativi all'ampliamento alle nuove costruzioni oppure ad altri interventi non saranno cumulabili con i precedenti quindi se voi diciamo ipotizzerete un intervento e direte che l'intervento prelevalente è un intervento di nuova costruzione noi non potremo considerare diciamo eventualmente come punteggio anche gli altri diciamo delle altre voci quindi vi prego di fare attenzione a questo verrà considerato ovviamente anche in termini di punteggi il livello di progettazione ovviamente come detto precedentemente la popolazione scolastica eventualmente ancora la presenza di materiali contenenti amianto ed altre circostanze premianti tra queste diciamo ci tenevo in particolar modo diciamo a fare riferimento anche perché poi successivamente ci sarà anche un intervento appunto della collega agli interventi di efficienza energetica previsti con il conto termico questa diciamo è una possibilità che noi valuteremo in termini appunto di punteggi aggiuntivi che comunque diciamo è contemplata e insomma è un'esperienza positiva che può essere diciamo intraprese da voi enti successivamente diciamo noi come procederemo diciamo alla stesura della nostra gradatoria in una prima fase sulla base di quanto da voi dichiarato procederemo alla stesura di una prima gradatoria cosiddetta provvisoria prenderevo come riferimento quello che voi dichiarate nel modulo di compilazione dopodiché partendo dal primo della gradatoria procederemo con le verifiche effettivamente per confusare che quanto è stato dichiarato effettivamente corrisponda ai documenti progettuali o comunque ai documenti che vi sono stati richiesti quindi in questa fase chiaramente potremo diciamo eventualmente decurtare informazioni punti che non sono coerenti in definitiva arriveremo successivamente dopo questa fase di verifica a quella che è la nostra gradatoria e poi sulla base diciamo delle risorse che verranno stanziate dal ministero a livello nazionale comunque procederemo poi con gli atti effettivamente all'assegnazione poi delle risorse agli enti che poi rientreranno in questa prima annualità ho fatto diciamo un riferimento anche io alla quota del 40% per dire che appunto in questa assegnazione delle risorse noi prenderemo estrarremo questo 40% e scorreremo chiaramente sugli interventi che riguardano semplicemente le province se nella miracolata ipotesi questo 40% soddisfacesse tutto il fabbisogno diciamo delle province ma lo escludo la parte residuale verrà diciamo destinata allo scorrimento per gli altri interventi diciamo mi sento dire che ho chiuso diciamo chiudo il mio intervento se ci sono domande insomma siamo qui a disposizione ringrazio Antonio e nel ringraziare Antonio che è diciamo una delle colonne del settore voglio ringraziare le altre le ultime due colonne perché una struttura non sta su senza quattro colonne chiaramente ma è tutto in segno quindi la Francesca Francini e Elisa Di Rosa insieme a noi sono le altre due colonne del settore per chiudere il discorso di tutta la collaborazione che ci danno e l'aiuto che danno su questa parte vista la parte del piano triennale veniamo a quella che è una delle fasi più importanti il supporto che Cassa Depositi e Prestiti può dare agli enti locali con il fondo rotativo della progettazione e spesso gli enti sono in difficoltà nel trovare le risorse per partire per dare l'avvio alla progettazione e Cassa Depositi e Prestiti su questa parte può essere di supporto quindi do la parola a Dottor Riccardo Maria Dizzone che è area enti pubblici della Cassa Depositi e Prestiti Bene, grazie buongiorno a tutti io innanzitutto volevo ringraziare la Regione Toscana per averci invitato qui oggi sono insieme anche un altro collega della Sede di Roma e siamo a vostra disposizione insomma per ogni altra informazione oltre a quelle che vi darò adesso lo strumento operativo che vi presentiamo oggi è il fondo rotativo per la progettazione che si aggiunge adesso è lo strumento operativo principale per anticipare agli enti le risorse per l'affidamento degli incarichi esterni per la progettazione e si aggiunge alle ultime misure che sono state programmate che sono state disposte dal legislatore all'interno della legge di bilancio e agli ulteriori interventi previsti poc'anzi sia l'ingegnere Iacobucci che la dottoressa Iandolo ne hanno parlato di tutte le forme di collaborazione che Cassa Depositi e Prestiti ha con il Ministero per lo sviluppo delle ulteriori misure per assistere gli enti locali nella progettazione Il fondo rotativo per la progettualità è uno strumento abbastanza datato che ha subito negli ultimi negli ultimi tempi un crescente interesse da parte degli enti locali perché come abbiamo già detto sia la qualità progettuale che il livello della progettazione sono dei criteri molto importanti anche per la selezione degli enti che saranno beneficiari del nuovo programma edilizia scolastica E' stato istituito il fondo con la legge 549 del 1995 dal legislatore con l'intenzione di razionalizzare ed efficientare la spesa per gli investimenti pubblici fornendo agli enti la liquidità necessaria come detto per l'affidamento e gli incarichi professionali esterni per la redazione di tutti i documenti componenti delle fasi progettuali e diciamo anche della fase pre-progettuale il legislatore istituisce questo fondo conferendogli una dotazione iniziale di circa 400 milioni di euro suddivisa tra diverse tranche di cui tre tranche dedicate a specifici interventi e un'ultima tranche del valore di circa 84 milioni non vincolata e che può essere utilizzata diciamo per tutti gli altri interventi per finanziare in particolare la progettazione relativa a opere del costo complessivo di circa 840 milioni visto che come vedremo l'anticipazione può essere richiesta per un ammontare massimo pari al 10% del costo previsto dell'opera o delle opere che siano funzionalmente integranti richiesto appunto dagli enti locali Cassa Depositi e Prestiti disciplina le modalità di accesso al fondo e il funzionamento dello stesso con la circolare 1250 del 2003 è un fondo il fondo rotativo per la progettazione che ha natura rotativa perché le disponibilità vengono tempo per tempo determinate in funzione dei profili di erogazione e di rimborso da parte degli enti beneficiari e un fondo su cui CDP concede dei prestiti con interessi interamente a carico del bilancio dello Stato ora non so quanti responsabili di servizi finanziari ci siano qui in sala ovviamente io mi affido a voi a che portiate presso i vostri enti queste informazioni perché ovviamente è un prodotto si tratta di un prodotto finanziario a differenza delle altre misure che invece sono previste in legge di bilancio e che prevedono appunto la concessione di un cofinanziamento da parte del ministero con il supporto amministrativo di Cassa Depositi e Prestiti quindi qui è necessario che l'ente che il ragioniere dell'ente verifichi gli spazi finanziari necessari per l'attivazione di questo prestito ancorché poi il prestito sia interamente a carico del bilancio dello Stato e quindi l'ente debba restituire solamente l'anticipazione in linea capitale che cosa è finanziabile con l'accesso al fondo rotativo progettualità sono finanziabili l'intenzione del legislatore è quella di supportare gli enti nello sviluppo dell'intero ciclo di vita dell'idea progettuale quindi sono finanziabili sia le fasi pre-progettuali che tutti i documenti componenti le varie fasi progettuali ora qui il prodotto va detto dovrà essere necessariamente aggiornato perché sia nella circolare che eventualmente qualora foste interessati nella domanda di finanziamento troverete delle definizioni abbastanza adattate si fa riferimento per esempio alla progettazione preliminare le procedure il prodotto dovranno essere adattate all'evoluzione del contesto normativo io comunque vi invito a contattare sia me che lavoro presso l'ufficio di Firenze che faccio la referente per quasi tutti gli enti locali della Toscana che anche tutti gli altri colleghi eventualmente che lavorano presso le sedi territoriali che sono state aperte diciamo nell'ambito che sono una delle iniziative le sedi territoriali di CDP nell'ambito del piano industriale 2016-2018 e che hanno come obiettivo quello di supportare il territorio garantendo una migliore assistenza commerciale agli enti locali e efficientando l'assistenza commerciale agli enti locali quindi le spese finanziabili sono tutte quelle legate all'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale come detto fino alle spese per i concorsi di idee e di progettazione e qui si include anche il premio che le amministrazioni pagano ai vincitori dei concorsi di progettazione per la rilevazione dei progetti non sono finanziabili tutte le spese che hanno carattere corrente quindi le spese per progettazioni interne svolte internamente all'amministrazione le spese per la predisposizione di particolari atti di programmazione le spese per la predisposizione dei bandi di gara o per le commissioni giudicatrici ci sono delle soglie di accesso al fondo rotativo della progettualità soglie di accesso che sono soglie minime che vanno soddisfatte in termini di costi delle opere per cui si richiede il finanziamento della progettazione costo delle opere inteso come somma dei costi previsti per lavori e forniture al netto dell'iva e che sono pari a un milione di euro o 250.000 euro per i comuni più piccoli con un numero inferiore o pari a 5.000 abitanti dal punto di vista operativo vediamo come funziona l'accesso al fondo e quali sono le dinamiche dalla domanda fino alla restituzione si fa una domanda a cassa depositi e prestiti secondo gli schemi allegati alla circolare 1250 ma che io vi invito eventualmente anche con il mio supporto e con il supporto dei colleghi degli uffici territoriali a scaricare dal portale antilocali e pubblica amministrazione nella domanda ci sono riportate tutte le voci per cui si intende richiedere il finanziamento e che andranno quindi spuntate alla domanda va allegata la delibera di giunta che approva il ricorso all'anticipazione la determina a contrattare e per entrambi questi documenti trovate gli schemi sempre sul portale antilocali e pubblica amministrazione e le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per l'indebitamento perché come detto si tratta di indebitamento a tutti gli effetti alla domanda segue una fase di istruttoria che potrà essere intervallata da una o più richieste dichiarimenti integrazioni da parte dei colleghi istruttori che terminerà con un affidamento e poi ci sarà diciamo il classico meccanismo per cui cassa depositi e prestiti vi trasmette la documentazione contrattuale che voi dovete ritrasmettere a cassa depositi e prestiti per poi arrivare all'invio da parte nostra di un contratto controfirmato che sancirà la stipula del contratto di prestito a questo punto parte una fase in cui l'ente ha sei mesi di tempo dalla concessione per comunicare l'avvenuta attribuzione degli incarichi professionali al termine al termine di diciamo questa fase poi si determinerà quale sarà l'importo effettivo dell'anticipazione che l'ente potrà richiedere perché eventualmente ci potranno essere dei risparmi rispetto all'importo stipulato e che risparmi che quindi andranno a ricostituire le dotazioni del fondo quindi ci sarà eventualmente una riduzione l'ente ha poi 12 mesi o 18 mesi di tempo per una volta attribuito l'incarico professionale per richiedere le erogazioni erogazioni che vanno richieste a stato avanzamento lavori allegando quindi a una domanda di erogazione che va trasmessa a carico del RUP con tutti gli estremi dei giustificativi di spesa 12 o 18 mesi perché l'anticipazione un'unica anticipazione può essere concessa sia per il finanziamento di una fase progettuale che per il finanziamento di più fasi progettuali nel qual caso appunto il termine per il periodo di utilizzo sarà più lungo e sarà pari a 18 mesi come si rimborsa diciamo con quali sono le modalità di rimborso del prestito il prestito va rimborsato entro tre anni dalla prima data di somministrazione e comunque non oltre 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria per la realizzazione dell'opera e il rimborso può avvenire in tre modalità attraverso la restituzione in linea capitale delle risorse che sono state anticipate attraverso un mutuo quinquennale un prestito ordinario offerto a Cassa Depositi e Prestiti a 5 anni oppure con addebito in conto al mutuo per la realizzazione dell'opera quindi questi sono diciamo i dettagli ovviamente quello che non vi ho detto è che il set documentale di cui vi ho parlato è un set documentale base ci sono poi una serie di documenti integrativi che vanno inoltrati a Cassa Depositi e Prestiti in funzione della specifica fase progettuale per cui si richiede il finanziamento io comunque vi invito a contattare sia me che i colleghi che gli altri colleghi delle sedi territoriali per avere maggiori informazioni e per avere assistenza commerciale se ci sono domande siamo qui a disposizione grazie grazie dottore Aldizzone procediamo con l'intervento della dottoressa Estella Pancaldi per il GSE gestore dei servizi energetici alla dottoressa Estella Pancaldi seguirà la dottoressa Testa Emanuela Testa sempre di GSE buongiorno a tutti alcuni visi in realtà li riconosco perché siamo state qui circa due mesi fa meno di due mesi fa con i colleghi che si occupano di Port Feser e oggi siamo tornati per l'appunto perché lo strumento del conto termico come è stato anticipato dai colleghi in qualche modo può venire incontro alla scarsità delle risorse nel senso è uno strumento di cofinanziamento che può in qualche modo integrare le risorse della programmazione e aiutarvi a realizzare un maggior numero di progetti a parità delle risorse stanziate dalla programmazione oltretutto cercando magari di farvi fare interventi più completi nella logica un po' che l'assessore ci diceva in apertura cioè arrivare ad avere edifici sui quali è stato fatto tutto innanzitutto la sicurezza l'antincendio e poi anche l'efficienza energetica che cos'è il conto termico il conto termico è uno strumento di politica energetica di fatto utilizzabile dalla pubblica amministrazione per efficientare i propri immobili pubblici ha una dotazione lo si è detto lo davano prima anche da in slide precedenti di 200 milioni però parliamo di 200 milioni anno di conseguenza nel triennio di programmazione che voi state per affrontare 2018-2020 sono 3 per 2 600 milioni che potete utilizzare per integrare le risorse della programmazione è uno strumento che dovrebbe aspira ad essere di facile utilizzo per la pubblica amministrazione cioè è un contributo a fondo perduto che quindi non vi dovrebbe creare problemi rispetto al tema del pareggio di bilancio e l'indebitamento inoltre in modalità che poi vi racconteremo nel corso della presentazione può essere utilizzato richiesto in anticipo e quindi può essere utilizzato come strumento di copertura finanziaria dai vostri ragionieri è uno strumento di cofinanziamento cioè al contrario della programmazione non finanzia un intervento per il 100% del suo valore da un contributo aggiuntivo diciamo premiando un livello di performance energetica che l'odificio sul quale lavorate sta ottenendo aggiuntivo rispetto a quello che fareste se rispettasse la normativa di legge in materia però ha un vantaggio e cioè che è accumulabile ovviamente fino al raggiungimento del costo totale del costo degli interventi che state sostenendo con qualunque altra forma di finanziamento pubblico non solo a fondo perduto ma anche nella forma di mutuo o qualunque altra tipologia di contributo che possiate ricevere dicevo vi stimola è un'integrazione diciamo a quello che state facendo sulla programmazione perché è un intervento che vi può aiutare a fare degli interventi che fareste comunque però con una qualità maggiore e quindi portandovi a valle quando avrete chiuso gli interventi sulle scuole e le scuole saranno operative anche ad avere dei benefici maggiori in termini di abbattimento dei costi di gestione delle strutture che cosa può funzionare che cosa può incentivare il conto termico il conto termico può incentivare tutti gli interventi che rendono energeticamente più efficiente un edificio e finanzia fino al 40% dei costi tutto ciò che è coibentazione degli involucri quindi involucro pacco pareti solai e sostituzione degli infissi sempre per il 40% finanzia fino al 40% finanzia l'efficientamento dell'impiantistica quindi per esempio la sostituzione di un sistema di climatizzazione invernale con una caldaia condensazione o la sostituzione dei corpi illuminanti oppure ancora l'introduzione in questo caso non parliamo di sostituzione ma può essere anche introduzione di tecnologie che aiutano l'edificio che vi aiutano a gestire in modo più efficiente le tecnologie già esistenti nell'edificio quindi non so a tenere accese le luci solo quando c'è presenza delle persone all'interno degli edifici o a regolare i sistemi appunto la temperatura all'interno degli edifici eccetera se li fate combinati il contributo può aumentare fino al 55% oltre a questo tipo di interventi sono finanziati anche l'introduzione di fonti rinnovabili sugli edifici quindi per esempio l'introduzione di generatori la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con generatori a biomassa oppure con comunque tecnologie più efficienti come per esempio le pompe di calore lo stesso dicasi sul tema dell'acqua calda sanitaria se introducete collettori solari o sostituite boiler elettrici con invece boiler a pompa di calore potete avere un contributo che arriva fino al 65% nel caso della programmazione è importante ricordare che il conto termico può finanziare anche interventi di grande entità inclusa la trasformazione NZEB degli edifici anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio che cos'è un intervento NZEB un intervento NZEB è un intervento in gergo nearly zero energy building significa portare un edificio al massimo della prestazione energetica possibile quindi a consumi energetici minimi si può fare diciamo su un edificio esistente introducendo una serie di variazioni se è un edificio che ha già un livello di efficienza relativamente elevato nei casi disperati ed è importante soprattutto per voi che vi affrontate una programmazione dove la priorità sarà la messa antisismica è possibile incentivare con questo strumento anche interventi di revisione radicale dell'edificio dove non vale la pena mettere le mani perché i costi sono troppo elevati e il risultato comunque finale non sarebbe all'altezza del bisogno soprattutto diciamo laddove parliamo all'altezza delle esigenze di sicurezza rispetto al tema della sismica si può demolire e ricostruire se ricostruite con dei parametri di efficienza molto elevati che peraltro sono quelli che saranno obbligatori da qui a pochi anni per la pubblica amministrazione addirittura probabilmente l'anno prossimo potete accedere ad un incentivo che arriva fino al 65% dei costi ammissibili con il conto termico il conto termico oltretutto diciamo vi aiuta un po' anche nel sostenere le spese di progettazione perché finanzia nella stessa percentuale che vi ho detto sugli interventi anche le spese di progettazione più tutta la diagnostica ante e post necessaria per avere gli incentivi quindi la diagnosi energetica che per avere il conto termico sulla maggior parte degli interventi quelli più importanti obbligatoria e l'ape post operam cioè l'attestato di prestazione energetica che comunque dovreste fare sui vostri edifici vi dicevo che può essere uno strumento di accertamento delle coperture finanziarie perché perché il conto termico può essere chiesto in due modalità in fase per l'appunto progettuale cioè quindi prima di andare in gara oppure si fa si può chiedere di prenotare un contributo voi avete conoscete il vostro progetto sapete quali caratteristiche a grandi linee avrà potete fare una verifica appunto sull'ammissibilità degli interventi che state facendo rispetto al conto termico potete chiedere sulla base del progetto anche solo della diagnosi energetica in realtà la prenotazione del contributo in conto termico in alternativa potete aspettare se non avete problemi di coperture non c'è un'esigenza di avere risorse di solito non capita nella pubblica amministrazione di avere risorse in anticipo si può chiedere il rimborso al termine dei lavori presentando le fatture di nuovo visto che ci affacciamo a un periodo di programmazione probabilmente la modalità della prenotazione anche per come è stato strutturato poi il bando per la richiesta dei butui bei dalla regione toscana vi potrebbe essere utile percorrere la strada e la prenotazione ma questo ve lo racconterà più nel dettaglio l'architetto testa dopo di me perché parlare di conto termico oggi se per l'appunto la priorità della vostra programmazione è l'antisismica in parte ve l'ho già detto ma era un concetto sul quale volevo tornare diciamo con una certa forza perché è un tema importante per due motivi nell'affrontare le lavorazioni che dovrete affrontare per mettere in sicurezza gli edifici ai sensi di normativa ancora non molto conosciuta ma già vigente sugli edifici comunque probabilmente vi ritroverete nella situazione di dover fare delle verifiche anche sullo stato energetico dell'edificio del suo involucro soprattutto dell'involucro degli infissi ma anche proprio dell'impiantistica a seconda del livello di diciamo ampiezza dei lavori che dovete fare laddove si parla di messa in sicurezza antisismica diciamo non non azzaro per cento è molto molto probabile che dobbiate fare anche le verifiche sul tema energetico a questo punto e fare gli adeguamenti laddove gli edifici non siano in linea con la norma nel momento in cui dovete fare gli adeguamenti tanto vale proprio per i motivi che vi dicevo prima legati ai risparmi che si possono ottenere ex post farli al massimo diciamo delle possibilità che la tecnologia consente al momento e il conto termico in questo caso vi aiuta nel senso che può integrare diciamo i fondi che voi richiederete sulla programmazione e tra l'altro se non ho capito male dalla presentazione del collega precedentemente qualora andiate per questa strada potreste avere anche una piccola premialità che vi può aiutare a far salire parte dei vostri progetti nella graduatoria giusto a questo punto diciamo sul come procedere operativamente vorrei presentarvi e chiederle di avvicinarsi l'architetto testa perché l'architetto testa segue i comuni toscani magari con qualcuno di voi ha già parlato appunto su altri progetti o su altri tavoli e di conseguenza potrete fare poi riferimento a lei per operativamente avere una guida e un aiuto e un supporto materialmente da qui ai prossimi due mesi Buongiorno a tutti io vi illustrerò quali sono i passi che dovete seguire per affiancare la richiesta di incentivo conto termico alla programmazione triennale per l'edilizia scolastica la prima fase è la verifica dei requisiti di ammessibilità del conto termico quindi il GSE fornisce supporto ad hoc ad ogni comune per capire all'interno del vostro progetto se gli interventi di efficienza energetica hanno i requisiti minimi per accedere al conto termico oppure anche come innalzarli di poco per poi raggiungere quelli che sono i requisiti minimi successivamente con l'inserimento di alcuni dati sul portale del GSE si può ottenere la stima dell'incentivo inserendo sia i dati dell'immobile sia i dati tecnici dell'intervento diciamo anche a livello generale e si riesce ad avere il facsimile della richiesta di incentivo dove sono indicati effettivamente gli importi che il GSE corrisponderà al momento della presentazione della domanda questa stima è finalizzata esclusivamente a fornire un documento che possa poi essere utile a copertura finanziaria del progetto e a dimostrare presso la regione che avete fatto accesso al conto termico quindi avere una premialità rispetto a questo punto l'invio della richiesta al GSE di incentivo effettivo viene fatto solo successivamente quindi poi quando ci sentiremo per ogni comune ad hoc sapremo in grado di dirvi qual è il momento migliore per voi per presentare la richiesta in particolare se la richiesta che farete occorre per la copertura finanziaria dell'intervento deve essere presentata non oltre due mesi prima dalla data prevista per la pubblicazione della determina a contrarre quindi ci sono dei tempi stringenti per la presentazione se invece il documento non è necessario per la verifica delle coperture può essere presentata anche all'avvio dei lavori quindi questo tipo di richiesta viene detta come diceva la dottoressa Pancaldi richiesta a prenotazione e può essere presentata quindi prima dell'assignazione dei lavori o all'avvio dei lavori sì magari ripercorriamo insieme anche per tutti questi tre step con più calma per così li per vedere sì allora il primo step è la verifica dei requisiti per accedere al conto termico gli interventi devono avere i requisiti di soglia riportati nell'allegato 1 del decreto ministeriale del 16 febbraio 2017 abbiamo elaborato una semplice checklist che vi inviamo e che insieme compiliamo per verificare appunto l'ammissibilità dell'intervento dove sono indicati gli indicatori principali per determinare l'ammissibilità dell'immobile e l'intervento come ad esempio l'accatastamento degli immobili che è necessario per la richiesta di incentivo o anche la presenza di un impianto di climatizzazione invernale precedente agli interventi questo passaggio è importante anche se non costituisce ancora una richiesta di contributo perché se farete la scelta per l'appunto di accedere al conto termico per avere magari anche la premialità della regione e quindi chiederete un po' meno in termini di contributo a valere sulla programmazione triennale è bene essere certi che gli interventi per i quali chiederete il contributo abbiano le caratteristiche per poterlo ottenere altrimenti poi diciamo non ci troviamo zoppi nella costruzione finanziaria del progetto quindi questa fase è una verifica preliminare per capire se effettivamente gli interventi che avete previsto o che state prevedendo potranno o possono accedere al conto termico il secondo step è quello della stima dell'incentivo quindi la registrazione sul portale sul portal termico del GSE e la compilazione della domanda quindi la prima fase è la registrazione della PA nell'area clienti del portale e l'accesso al portal termico vengono poi inseriti i dati relativi agli immobili sul quale si intende realizzare l'intervento di efficienza energetica e qui è sottolineato appunto che l'immobile deve essere necessariamente accatastato viene selezionata la modalità di accesso quindi nel vostro caso la prenotazione per accedere agli incentivi e vengono poi selezionati gli interventi per i quali richiederete l'incentivo e inseriti i parametri tecnici di ogni singolo intervento all'interno della tra la documentazione da fornire ci sarà anche un facsimile che riassume tutta la costruzione finanziata del progetto dove vengono riportati gli eventuali altri finanziamenti presenti insieme alle risorse proprie del comune e alla fine viene generato un facsimile di anteprima richiesto incentivo che può essere fornito alla regione come dimostrazione e attestazione della richiesta di incentivo ma può essere utilizzato anche dal comune come copertura finanziata del progetto il facsimile ancora no scusa il facsimile non costituisce ancora un documento che il vostro ragioniere può considerare accertamento della copertura finanziaria perché poi c'è la valutazione della domanda ma se siete arrivati in fondo al caricamento della pratica e il portale vi genera il facsimile a meno che non abbiate dichiarato delle cose incoerenti con il vostro progetto cioè il falso di fatto tutto questo percorso diciamo vi dà una ragionevole certezza che gli interventi che avete inserito sono effettivamente incentivabili la certezza definitiva quella che poi serve al vostro ragioniere arriva una volta che farete l'invio della richiesta di incentivo e il GSE vi risponderà dicendo che va tutto bene e vi restituirà un documento che si chiama accettazione della prenotazione dell'incentivo e che può essere a quel punto inserito diciamo tra le carte anche del vostro bilancio non abbiamo suggerito di farlo in questa fase perché come ci raccontavano precedentemente i colleghi della regione i tempi della programmazione saranno lunghi per cui voi presenterete adesso i vostri nel giro di un paio di mesi i vostri progetti poi ci sarà un tempo per la valutazione dopodiché dalla graduatoria regionale ci sarà un ulteriore tempo per l'elaborazione della graduatoria si arriverà presumibilmente fine 2018 primi 2019 la prenotazione del contributo GSE ha agli stessi criteri che valgono legati all'accelerazione della spesa o comunque al mantenimento degli interventi su un cronoprogramma ragionevole che c'è nella programmazione di conseguenza fare la richiesta di prenotazione oggi significherebbe diciamo se non si parte nel giro di sei mesi con i lavori doverla poi ripresentare tra sei mesi e così via fin tanto che diciamo non fa il suo corso il ciclo della progettazione triennale ed è per questo che in questa fase il suggerimento che vi diamo è di fermarvi sul facsimile dopodiché se invece volete essere più tranquilli ci impiate la richiesta e se e quando se non riuscite a partire per tempo con i lavori vorrà dire che ci chiederete di annullare quella e ce ne riproporrete un'altra fin tanto che non rimaniamo allineati il consiglio è di fermarvi qui proprio per evitare amministrativamente di dover ripetere la stessa procedura più volte e diciamo arrivare a una situazione nella quale sapete che potete prendere il ponto termico ma ce lo chiederete formalmente quando anche i tempi della programmazione triennale avranno raggiunto la maturità diciamo saranno arrivati al al completamento al al completamento della prima fase del loro percorso e su questo restituisco la parola Emanuela perché avevamo fatto un ragionamento e su questo volevo poi aggiungere che il valore stimato che esce fuori dal facsimile della prenotazione è l'importo massimo riconoscibile dal GSE per quell'edificio quindi è bene inserire tutti quanti gli interventi programmati senza tralasciare nessun intervento perché poi non è possibile inserirlo successivamente queste sono le due opzioni per l'invio della richiesta a conto termico allora se la richiesta di conto termico è necessaria per la verifica delle coperture la domanda deve essere presentata prima della gara d'appalto sarà necessario allegare la diagnosi energetica con un quadro economico che sia corrispondente agli importi dichiarati poi sul portale per il costo totale dell'intervento e un atto amministrativo di impegno dell'amministrazione con la quale l'amministrazione appunto si impegna a realizzare almeno uno degli interventi presenti nella richiesta a prenotazione questo è il cronoprogramma quindi c'è una ci sono sei mesi per assegnare lavori poi per l'avvio lavori e per la fine lavori che si differenziano sono 18 mesi per tutti gli interventi relativi agli involuti e agli impianti e diventano invece 36 mesi nel caso di realizzazione di edifici NZEB anche in caso di demolizione e ricostruzione se invece non è necessaria la richiesta di conto termico per la verifica delle coperture la domanda di prenotazione può essere presentata anche all'avvio dei lavori sempre con diagnosi energetica e un atto amministrativo di impegno ed in più il documento di assegnazione lavori timbrato dal tecnico professionista in questo caso la tempistica per la fine lavori sono 12 mesi per tutti gli interventi diciamo semplici e invece 24 mesi per gli interventi NZEB abbiamo riportato alcuni esempi di adeguamenti sismici di scuole di infanzia realizzati in Italia per i quali poi è stata fatta richiesta di conto termico questa è la scuola dell'infanzia costa a Sarnano l'intervento è stato realizzato con il contributo del conto termico e dei fondi regionali si è trattato di un intervento di demolizione e ricostruzione nel caso di demolizione e ricostruzione aggiungo che la volumetria alla nuova volumetria realizzata non potrà superare il 25% della volumetria iniziale dell'edificio abbattuto e l'incentivo del conto termico ha coperto il 22% delle spese quindi il recupero è stato significativo anche se non enorme il secondo esempio è la scuola primaria di Ginobili a Petriolo l'intervento sempre in Ezeb realizzato con il contributo del conto termico sempre un caso di demolizione e ricostruzione e in questo caso le spese sono state di 730.000 euro e l'incentivo ha coperto il 58% delle spese naturalmente questi investimenti oltre a realizzare quindi degli interventi di efficienza energetica che migliorano l'abitabilità della scuola e producono poi anche un risparmio energetico per gli anni a venire su questo la differenza nella percentuale di contributo che arriva sui progetti sta un po' nelle dimensioni dell'oggetto sul quale state lavorando nel combinato risposto tra le dimensioni dell'oggetto sul quale lavorate e i massimali previsti dal conto termico cioè a seconda della zona climatica il contributo massimo che il conto termico può erogare sta tra un milione e mezzo e un milione e 750 mila euro che viene calcolato sulla base dei metri quadri e per ogni metro quadro sul quale voi lavorate l'incentivo massimo del GSE arriva circa tra le 350 e i 370 euro quindi diciamo che per fare un conto spannometrico di quanto potreste ottenere qualora decidesse di fare un intervento NZEB considerate i metri quadri della vostra scuola per 350 euro e avete una stima approssimativa del valore del contributo che potreste ottenere in questo no 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 basta finito i 3 esempi successivi che Manuela vi farà vedere sono esempi di interventi fatti in comuni della Toscana per cui se volete diciamo fare confrontarvi con qualcuno che ha già provato diciamo qui avete qualche esempio questa è la scuola a Monteriggioni dove è stato eseguito un intervento di isolamento termico e di sostituzione degli infissi e il recupero dell'importo dell'intervento con il conto termico è stato del 40% questa è la scuola primaria di Pestello a Montevarchi è stato realizzato un intervento di relamping con il contributo del conto termico ed è stato recuperato il 26% delle spese la scuola di infanzia Arcobaleno Ponte Bugianese è un multi intervento hanno realizzato isolamento termico della copertura più un'installazione di una caldaia a condensazione e qui il recupero è stato del 13% delle spese si posso fare una domanda su questo posto termico ma di quello che è il scuole di scuole intervento noi che siamo situati alle scuole superiori e nonni hanno una scuola di contributo di questo tipo io speravo di realizzare una scuola nuova rimuovendo una scuola superiore è una faccia grande è un letto che è in un numero al massimo e ricostruendola utilizzando l'intento di un eBay e tutti i numeri di esperti però vedo che questi ricosti oltre per il grosso non si tratta perché se forse il 25% dell'aspetto vera che io sostengo sono un ricordo per l'esterno non sono un interperformante e viene a costare il 25 mila e poi ci metto anche tutti gli impianti a migliorare 10 milioni se poi gli metti 10 milioni non si tratta il 25% non è presente la quota ma non lo avete previsto diciamo il conto termine che è una domanda qual è la domanda la domanda è se c'è possibilità di derogare da questi minimi allora no non c'è possibilità di derogare dai minimi diciamo l'unica possibilità o comunque le valutazioni che possono essere fatte su strutture scolastiche molto grandi è legata alla struttura delle scuole cioè il conto termico come il bando regionale ragiona per edifici cioè per quindi in una scuola grande gli edifici possono essere bisogna vedere com'è configurata cioè se c'è per esempio un edificio aule un edificio palestra ed entrambi arrivano e ne zeb sono separati allora in quel caso sì si possono presentare due richieste legate se invece l'edificio è uno solo ahimè il conto termico purtroppo per come sono i massimi diciamo concepiti i massimali oggi diciamo su un progetto da 10 milioni può finanziare da 20 milioni finanzia diciamo una percentuale piccola sì questo sì per cui uno giustamente fa le sue valutazioni e vede se vale la pena oppure no questo è chiaro nel caso diciamo se per quella che era stata la nostra valutazione questo l'approccio conto termico sommato alla programmazione diciamo può avere ha senso per chi comunque magari ha dei progetti già in stato avanzato di progettazione per i quali magari avere il punteggio aggiuntivo della della regione può far diciamo può aiutare può far comodo e di conseguenza a quel punto diciamo c'è un vantaggio nella richiesta del conto termico perché aiuta un po' rispetto alla graduazione notoria dopodiché fare gli interventi ci siamo nella situazione paradossale che uno potrebbe fare gli interventi del conto termico senza chiedere il conto termico e la programmazione ve li rimborsa lo stesso perché per l'appunto ammette diciamo può pagare fino al 100% del valore del vostro progetto certo in una logica regionale o comunque anche in una logica di un ente che di scuola non ne ha una ma ne ha dieci tutto quello che in qualche modo si riesce a recuperare di risorso aggiuntivo dal conto termico anche se è poco e per esempio su una scuola da 20 milioni bene che vada bene che vada parliamo del 5% certo non è molto però magari con quel 5% si fanno poi gli infissi da un'altra parte a parte di lasciarvi le brochure sul conto termico se volete sono a vostra disposizione questi sono i nostri riferimenti per qualsiasi domanda quindi c'è una casella di posta elettronica supporto pa chiocciolagse.it oppure un numero dedicato che è lo 06 8011 3535 grazie grazie all'architetto Emanuele Testa e la dottoressa Estella Pancaldi diciamo integro anch'io a questo punto dato colgo l'occasione per dire che noi nel nostro bando regionale per quanto riguarda il conto termico richiediamo che venga legata questa richiesta chiamata facsimile che sarebbe la prima parte della procedura che vi è stata illustrata ecco sarebbe questa valutazione che alla fine diciamo poi sarà ripresa quando effettivamente dovrete fare la domanda e inviare la prenotazione grazie allora procediamo con gli interventi l'architetto Gravele De Santis è referente interregionale della task force edilizia scolastica Toscana e Piemonte e lavora per l'agenzia per la coesione territoriale Buongiorno a tutti intanto non posso che ringraziare la dottoressa Mele l'architetto Gabrielli e la regione Toscana tutta per essersi attivati per questo evento per aver permesso questo confronto dove anche voi enti potete ricevere tutte le informazioni per poter avviare un'ottima programmazione mi presento sono Gabriele De Santis referente interregionale Toscana e Piemonte per l'attività task force il progetto task force voluto dall'agenzia per la coesione territoriale che lavora in partnership sicuramente con la regione Toscana che ha aderito a questo progetto nell'ultimo comitato paritetico parliamo di ottobre novembre novembre scorso ma che collabora poi con il MIT la SMES il MIUR e altre 15 regioni qual è l'obiettivo e la mission della task force l'intervento si intitolava una risorsa per gli enti locali sicuramente non abbiamo a disposizione dei fondi come il GSE piuttosto che dei prestiti come la cassa depositi e prestiti ma mettiamo sul campo delle risorse umane e professionali che possono accompagnarvi e supportarvi nell'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica come vedremo nelle slide la nostra attività si svolge in accordo con la regione con la regione Toscana sicuramente che è l'attore protagonista della vostra programmazione ma si svolge sul territorio quindi presso i vostri enti quello che possiamo fare è un supporto sull'attività tecnico sulle procedure di gara sui contratti sull'esecuzione dei lavori vedere con voi e anticipare con voi quali possono essere le criticità di un intervento e quindi prevenire alcune situazioni che possono riscontrarsi nella fase di esecuzione dei lavori ma qualora dovessimo riscontrarle in fase di esecuzione attivarci attivarci insieme insieme all'amministrazione centrale al MIUR piuttosto che al MIT per poter risolverle nel minor tempo possibile far sì che quello che è l'obiettivo dello Stato quindi scuole sicure dove al centro abbiamo messo l'ente locale e quindi cittadinanza contenta possa essere appunto rispettato un altro nostro obiettivo non di poco conto è quello del supporto sulla nagra fedilizia scolastica di cui Antonio Casile faceva riferimento nella presentazione del bando del nuovo bando triennale questi alcuni numeri noi abbiamo stiamo monitorando per il momento l'annualità 2015 del decreto mutile del 2016 gli interventi urgenti una legge regionale per l'edilizia scolastica che sicuramente tutti conoscerete la legge 2396 che ha aperto un po' gli orizzonti all'edilizia scolastica con i primi finanziamenti alcuni parfas sul 2007 e 2013 sono 155 interventi sperando che questa collaborazione possa portare ad ampliare questo panorama di interventi che stiamo supportando questa è l'attività fatta da novembre ad oggi a marzo 2018 con 70 incontri presso gli enti 93 interventi presidati 109 milioni di euro monitorati vuol dire che riusciamo a fare 4-5 interventi a settimana e qui vedete la loro dislocazione su base regionale il supporto dell'attività del settore istruzione e formazione poi in collaborazione con la regione dicevo poc'anzi che noi accompagniamo vorremmo accompagnarvi e supportarvi anche su quanto riguarda l'anagrafe ed edilizia scolastica perché vorrei passare direttamente al punto 7 che interessa sicuramente al ministero che avere una fotografia reale dello stato dei nostri edifici scolastici permette una buona programmazione quindi il caricamento di questi dati che può sembrare delle volte un altro appresentimento dell'amministrativo per voi ma porta a programmare secondo le vostre esigenze perché nel momento in cui lo stato è a conoscenza delle vostre strutture potrà operare e programmare secondo esigenze ben precise e per far questo noi vi accompagniamo sia nell'utilizzo del portale sia ad agganciare i plessi che non sono agganciati ma questo sicuramente lo facciamo tutte queste operazioni che leggete che non voglio stare adesso a delencare lo facciamo con il supporto della regione toscana e con l'accompagnamento fino ad oggi di soluzioni che in questo quindi Vladimir miro ed Edoardo che sono sempre disponibili ed eccezionali una cosa che diceva Antonio e vorrei ribadire che questo aggiornamento dei dati mancanti SNAES che è questo sistema anagrafico nazionale anagrafico edilizia scolastica diventa una condizione sine qua nonne per poter accedere alla finestra finanziamenti proprio per questo noi abbiamo incontrato da gennaio a marzo perché la squadra poi è andata formando nel tempo 33 enti monitorando sull'anagrafico edilizia scolastica 464 edifici partivamo da una situazione di questi 464 di 176 SNAES verde vuol dire che su 464 solamente 176 avrebbero potuto accedere al modulo finanziamento con il nostro intervento ma anche con la vostra volontà di sistemare la situazione e aggiornare i dati siamo passati in due mesi a 234 quindi con un incremento del 20% sullo SNAES verde questo controllo SNAES poi viene rigirato dallo snodo regionale poi alle amministrazioni centrali appunto come dicevo prima per la programmazione in base all'accordo di conferenza unificata che si è attivato a febbraio del 2014 quali soleno le criticità su anagrafe che troviamo più spesso presso gli enti questo è su un dato nazionale ma abbiamo riscontrato in minor numero ma anche presso i vostri enti sono i plessi ancora non agganciati a rispettivi edifici gli edifici scolastici non censiti nella banca dati Ares edifici non georeferenziali o con delle coordinate errate anche sapere la perfetta obbligazione dell'edificio permette attraverso delle mappe di analisi rischio capire quale sono effettivamente le esigenze del territorio immaginate sovrapporre l'edificio sulle zone sismiche piuttosto sul rischio idrogeologico ma anche dal punto di vista vincolistico questo ci permette di avere veramente un quadro ben preciso e su cui poi mettere il focus nella programmazione la difformità nella toponomastica e via discorrendo fino ad arrivare alle planimetrie certificati non caricati voglio ricordare che l'anagra federizia scolastica e questo sistema pensato alla regione toscana che è stata la prima rimane anche per gli enti come un cruscotto vuol dire un cassetto dove potete caricare tutte le informazioni dell'edificio scolastico noi andiamo presso gli enti adesso voglio fare l'esempio del Lazio perché non sanno dove stanno per esempio i certificati l'agibilità piuttosto iniziano a cercare negli archivi si perde tantissimo tempo ogni anno poi i dirigenti scolastici li richiedono per poter portare avanti i propri documenti del rischio eccetera eccetera invece questo portale a vostra disposizione diventa un cruscotto dove poter annidare tutte le documentazioni e avere un facile accesso una facile reperibilità quindi anche le planimetrie le certificazioni non caricate e sullo SNAE S-Rosso ci stiamo lavorando proprio per permettervi di questo non sarebbe possibile senza la squadra che ha messo a disposizione l'agenzia io mi divido tra Toscana e Piemonte quindi alcune facce presenti in sala le ho già incontrate nell'attività ma tante altre no l'attività viene svolta dall'archietto Paciotti dall'archietto Tartaglia Sardella e dall'esperto anagrafe Sergio Mangiaracina rimaniamo a disposizione per questo tipo di supporto e accompagnamento e vi ringrazio per l'attenzione dedicata grazie a Gabriele dell'intervento come avete visto cioè tutti gli interventi che si sono succeduti nella mattinata dal punto di vista tecnico cercano di comporre un quadro di riferimento più utile possibile a voi enti locali che dovrete appunto cingere alla programmazione del prossimo triennio ecco come diceva appunto anche Antonio prima mi raccomando tutto quello che avete in mente nei prossimi tre anni di realizzare inseritelo in questo piano il fatto che noi consentiamo di inserire dentro qualsiasi tipo di livello progettuale va in quest'ottica questo è un piano inclusivo ci deve essere tutto quello che avete in testa di fare nei prossimi tre anni perché come avete visto nel piano precedente per cui sono stati estratti gli interventi di carattere sismico non era previsto quindi è venuto fuori che il ministero ha ottenuto questi finanziamenti a punto di vista si sono divisi in due parti da parte per le province da parte dei comuni con due atti separati ma si è estratto quindi sono stati estratti anche interventi che nel piano erano in fondo quindi quello che avete da fare mettetelo abbiamo limitato a due terzi degli interventi sui vostri edifici scolastici perché chiaramente se no diventa un piano ingestibile non riusciamo neanche a vedere però ecco quello che avete in mente le urgenze avete in mente inserite in questo piano si concludono gli interventi a punto di vista tecnico io passo la parola all'assessore Greco per le conclusioni grazie naturalmente mi sento di dire che se ci fossero domande insomma o dubbi i nostri uffici rimangono a disposizione e quindi andiamo a concludere questa mattinata io credo di poter dire che siamo in una tappa in una tappa importante di un percorso un percorso che ci vede molto soddisfatti appunto nell'iter che stiamo seguendo sicuramente per i finanziamenti che sono arrivati e che arriveranno sui territori ma ancor di più come è stato detto negli interventi iniziali perché finalmente nella scorsa legislatura e con gli scorsi governi veramente si è ridata centralità all'edilizia scolastica alle politiche sull'edilizia scolastica e ancor di più per il metodo con cui con un grande lavoro di collaborazione istituzionale siamo riusciti a passare da logiche puntuali a logiche sistemiche quindi è stato già detto noi ci apprestiamo ad approntare questo nuovo piano facendo tesoro e di ciò che ha ben funzionato nella scorsa programmazione che era un po' l'avvio di una logica nuova ma anche di ciò che ha costituito criticità e quindi abbiamo cercato in un in un metodo di feedback quindi di valutazione dei risultati di riprogrammare per migliorare la programmazione la programmazione complessiva riuscire a fare sostanzialmente un'unica graduatoria quindi un unico atto di programmazione su cui poi le varie risorse finanziarie vanno a confluire è un passo importantissimo perché permette veramente anche di fare sinergia anche per noi amministrazioni regionali quindi di mettere un po' tutto a sistema quindi i nostri interventi di programmazione della rete dell'offerta scolastica i dimensionamenti le proiezioni anche i dati di stamani ce lo confermano ci sono proiezioni importanti tutto questo tutte queste politiche scolastiche non possono andare in un binario separato rispetto agli interventi sull'edilizia quindi deve essere tutto un unicum e quindi uno strumento di programmazione di questo tipo ci permette di svolgere il nostro ruolo anche a noi come amministrazione regionale rispetto in collaborazione ripeto sempre in collaborazione con i ministeri interessati e soprattutto con gli enti locali in una logica di ascolto reciproco e di ottimizzazione degli strumenti ci permette però di fare anche delle politiche che siano integrate e che quindi vadano a dare risposte ai territori io credo che oggi sia stata una mattinata importante interessante spero che sia stata utile anche per voi quindi che sia stato utile questo viaggio a Firenze che insomma ringrazio anche chi ha permesso il trasferimento di informazione attraverso i nostri mezzi telematici quindi voglio ringraziare anche chi è rimasto a seguire anche da remoto tutti gli interventi della mattinata e questo intervento conclusivo e ripeto appunto la disponibilità dei nostri uffici come sempre a cercare di risolvere problemi e di nuovo rinnovo anche l'invito a tutti gli enti locali a cercare di lavorare adesso per avere poi un periodo triennale di strumenti a disposizione quindi io mi fermo anche perché abbiamo di poco oltrepassato l'ora che avevamo previsto per la conclusione dei lavori ringrazio Paola Iandolo e insomma tramite lei ringrazio anche il ministero e anche la ministra che devo dire nelle riunioni dell'osservatorio è stata presente lei stessa o tramite il sottosegretario però insomma anche lei con la sua presenza ha sottolineato l'importanza che anche per il MIUR questo settore riveste non solo come risorse erogate ma anche come centralità di politica e anche ministeriale quindi prego Paola di portare i nostri saluti e ringraziamenti anche alla ministra Fedeli grazie e buon lavoro grazie 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 grazie